ci siamo eh ci siamo eccoci vorrei far sentire in anteprima l'audio che ha mandato aspetta che però lo sento prima io occhio perché non si sa mai che cosa si possa sentire vediamo un po' se si può non va, provo a riavviare tutto iniziate perché non mi va la linea non riesco a entrare non va, provo a riavviare tutto queste sono le prime dichiarazioni del mullà dopo il fallimento del fatto un anno allora buonasera a tutti io Berta devo dare il mio buon anno perché è la prima diretta fai come fosse a casa tua, tanto stasera siamo in libera uscita per quanto mi riguarda perché è la prima live mia del 2023 a parte vabbè Bike Channel e Fede si è preso una serata libera lo sapete perché per chi non lo sa diciamo che oggi è il suo compleanno e quindi aveva la serata diciamo in cui era sequestrato non si dicono quelle cose aveva una cena con la compagna e via dicendo quindi tra poco penso che si collegherà? beh credo di sì, lui sicuramente su mullà ho qualche dubbio invece perché visto quanto è accaduto col down under insomma ci deve spiegare un po' di cose un po' di scelte particolari che ha fatto per la corsa ma io volevo chiedere alla chat se qualcuno si è svegliato di notte a vedere il down under se qualcuno, Berta sicuramente sì no io li ho guardate tutte la mattina tutte? anche l'ultima? sì, dalle 6.40 l'ho guardata quindi gli highlights praticamente no che highlights, guarda tutta la tappa ma le 6.40 non era già finita? eh ma con Discovery puoi riguardarla dall'inizio eccolo! ah eccolo tornata la linea mullà buonasera forse, mi sentite? sì sì ho avvaltato ma ti sentiamo ci ha avuto un blocco ma non io stavolta ero compiuto pensavamo non venissi stasera invece no perché? il blocco è di famiglia mullà per quale motivo scusa? non venire beh diciamo che il tuo down under poteva andare meglio io non ho corso però eh cioè almeno quello poteva andare meglio ma poteva andare anche peggio beh considerando che è la corsa più inutile della terra dopo il Guanzi Tour insomma solo che questa interessa fino a un certo punto eh sì avevo chiesto io sono onesto eh sono onesto non ho visto nemmeno un minuto neanche gli highlights? neanche gli highlights per me questa corsa è completamente indifferente eh da sempre eh da sempre non è da quest'anno cioè c'è stata pausa no? questo corso non si è corso per te? no ma da sempre il down under l'ho sempre snobbato nel senso che per me non è una corsa non ha un senso proprio nel calendario eh World Tour perché si corre in un momento assurdo eh e non ha non ha proprio senso non ha proprio senso come corsa è una vergogna che sia categoria 3 sempre stato no? eh dovrebbe essere categoria 5 come il Guanzi Tour no? una cosa del genere è una buffonata per australiani stavi dai eh non può essere al pari della Tirena Adriatico non lo so o di qual è cosa c'è di categoria 3 poi? eh la pariginizia la pariginizia cioè dai a parte tutto sennò davvero si scherza eh io non ho visto niente quindi ho solo cioè eh non ho solo letto delle cose in qua e là ho guardato i risultati però niente la sto guardando eh la sto guardando a proposito di di corse di corse di livello c'è la Vuelta San Juan in corso alla prima tappa e poi vi daremo in tempo reale l'ordine d'ordine d'arrivo e vabbè è stata una corsa effettivamente non c'è moltissimo da dire nel senso che eh qualcuno ha deluso e tra un po' ci arriviamo soprattutto un nome in particolare che continua a essere tra i favoriti delle corse di una settimana non tutte per carità però eh sempre uno dei favoriti e puntualmente però non riesce mai a ottenere un risultato di livello è stata la corsa sì degli australiani perché effettivamente hanno conquistato se non ricordo male eh due maglie su su quattro eh e soprattutto Jay Vine che ha portato a casa il successo diciamo dimostrando una una buona condizione e mettendo secondo me determinate determinate regole in casa o Emirates per il proseguo della stagione cioè Vine può essere l'uomo l'uomo per alcune corse a tappe in cui non ci sarà ovviamente il supercapitano Bogaccia non so se siete d'accordo no come mai Berta non sei d'accordo no bisogna aspettare un down under non fa primavera però cioè Vine comunque ha fatto io che invece l'ho vista è stato assolutamente inappuntabile poi ha vinto secondo me anche per i secondi che ha preso nella cronometro in cui sono se non mi ricordo male visto che sono già passati qualche giorno Yates l'ha fatta letteralmente nel nel diluvio e invece Vine era già in una in un momento in cui era abbastanza più praticabile il il percorso certo è andato forte secondo me così forte forse era un po' inaspettato cioè in molti l'hanno preso però che lo vincesse era non so nulla si molti non tutti l'hanno preso non era favorito infatti non è che non ti convinceva però no non è che non mi convinceva non l'ho preso semplicemente perché cioè l'avevo preso e poi l'ho venduto tipo l'ultimo giorno perché volevo risparmiare un cambio più avanti per le state bianche ho preso qualcuno per le state bianche non volevo più fare i cambi capito una cosa del genere non pensavo che vincesse quindi ho detto anche se arriva terzo quarto quinto capito che me ne frega capito cioè un ragionamento del genere poi più avanti non lo terrò perché io non lo terrò fino al giro al massimo lo potrei riprendere per il giro se fa bene se continua a fa bene magari però non lo terrò fino al giro non lo avrei tenuto comunque fino al giro capito quindi ho detto mi tocca prenderlo e poi per le state bianche rivenderlo un'altra volta e prendo un altro prendo direttamente uno per le state bianche e perderò un sesto posto invece ha vinto e ho sbagliato il calcolo capito che ti voglio dire solo la vittoria un secondo posto poteva rovinarmi questo piano non è che non ci credevo non credevo che vincessi o arrivassi comunque secondo e quindi ho fatto una scelta di risparmiare un cambio per una corsa più avanti semplicemente velovo salire poi ha vinto perché ha vinto perché praticamente era una corsa di merda in cui non ci sono seriamente una corsa talmente di merda dove ha fatto la differenza praticamente mette la crono di 5 km perché quando te in una corsa fa la differenza una crono di 5 km la crono di 5 km è il meteo che c'era nella crono di 5 km sì oltretutto falzata cioè una crono falzata di 5 km è stata la tappa più importante ai fini della classifica dove in top 10 troviamo un velocista cocard imbarazzante cioè io ho una corsa a tappa dove decimo arriva un velocista per me deve essere scancellata dalla faccia della terra questo è il mio giudizio definitivo anche senza aver visto nulla eccolo ciao Mirko ciao ragazzi mi sentite io perfettamente come vale 6 e mezza del mattino sì 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 6 e 40 ormai sì bene dai bene non potevamo noi per una settimana ci siamo svegliati alle 6 e 40 più o meno sì anche io giusto non potevamo non collegarci con l'Australia dopo questo magnifico da un under che ci ha regalato un'emozione dopo l'altra tutte le mattine tu l'hai vista la corsa? io non durante la giornata perché a pomeriggio sono impegnato però vabbè gli highlights ho visti tutti poi davano le repliche in serata quindi un po' l'hai vista di più del Moulin sì il Moulin non ha visto niente ho sentito no non l'ho vista non l'ho vista io ti voglio fare una domanda c'è una salita in Australia seria? allora una basterebbe una come che ascoltate anche le Emirati Arabi hanno una salita è deserto quindi c'è speranza anche per l'Australia secondo me di trovarne una allora io quando vado a fare qualcosa qua in zona ce n'è una la più dura però sono 4 km quindi non sono lunghi capito sono salitelle però è dura cioè il primo km è al 23-24% di media qua dove siamo noi e poi va tutta su a 5-6 quindi non è dura c'è solo il primo km che è duro duro poi il resto facilino dai ma io non ci chiedo che comunque in tutta l'Australia è grande è grande ragazzi è un continente praticamente l'Australia quindi non c'è una salita in un continente una salita ti dico anche la salita che hanno fatto oggi non ti dico lo Stelvio oppure il tour una salita una salita normale ma il tour down under è tutto giù nel sud Australia ad Adelaide Adelaide è una zona un po' collinare famosa per i vini la città è piccolina e poi tutto al di fuori sono tutte zone di vitigni quindi sono collinette non si può pensare che lì ad Adelaide ci sia qualcosa di più no però siccome ce l'hanno fatto poi due mondiali erano ridicoli anche nel senso non c'era una salita neanche lì ora tre indizi fanno una prova cioè non c'è una salita in quel continente proprio non è meno no niente c'è speranza pochino pochino ho capito sei riuscito a prepararci qualcosa Mirko in onore di questo down under so che ci hai lavorato nella notte sì sì ho scritto ho scritto una cosina attenzione la poesia del down under eh sì sì in onore soprattutto di uno di un corridore che non ci ha regalato neanche una gioia in questo down under ce l'avevano praticamente quasi tutti quindi ne ho ancora nominato ma qualche messaggio posso sospettare di chi si tratta sì ce l'ho andiamo adesso vai vai sì sì col botto col botto via allora c'era una volta in terra oceana l'inizio di un altro anno di Fanta fuori dal mondo forse troppo lontana l'Australia attrae chi due ruote canta e cantori di ruote che vanno veloci ce n'è un poco qui ma molti più là nomi azzardati in mesi precoci per Fede, Alberta e su tutti il mullà e va che ci han preso quasi su tutto tranne quel nome di Gran Testardia quell'Itanator che dovrebbe far brutto ma non si è capito poi che corrido sia cronometro sprint e arrivi in salita potrebbe vincere dicono gli esperti ma a fin dei conti a partita finita i punti sono pochi e anche sofferti per fortuna che altri mandano segnali Bilbao Yates certo va in J vincendo in buon stile davanti ai rivali mentre scomparne nulla in play J è presto sì per tirar conclusioni che è poco affidabile terra cangura ma tra nulla che trago su mie notazioni Tiberi sta lì a ben poca misura di Bilbao ci si fida sempre e comunque e Yates nella sua personale scostanza non fa certo punti sempre e dovunque ma quando fa bene è buona pietanza scrivi scrivi mio fantasiclista note dei cidi che lungo è il cammino scegli con cura ogni forte ciclista ma sempre nel dietro lo prendi un pochino caschi e ricaschi in stessi tranelli di quei corridori un po' maledetti che al primo sguardo sono davvero belli ma hanno pregi che sono ben ben dei difetti è in fondo il suo bello saper ma sperare dare fiducia a chi non dovresti che alla fin ci si trova lì tutti a tifare con grandi emozioni e punti modesti si apra Sipario su nuova stagione si apra su bici che seguiamo per ore non badar troppo a final posizione divertiti a un gioco che vinca il migliore grandissimo bravo bravo sei stato su Hater sei stato ancora buono tutto buono sì c'erano diciamo potete offenderlo di più vabbè ci possiamo pensare sempre noi oppure possiamo iniziare anche a offendere noi stessi che continuiamo a prenderlo cioè potrebbe essere un'idea invece di prendersela con lui perché lui purtroppo non penso sia colpa sua se non va per niente mai in nessun caso se ti ricordi anche Viviani quando è venuto in live quando gli ho chiesto io ma Hater che corridore è? allora non è un corridore da tre settimane non è un corridore da corsa da una settimana classiche così così lo possiamo dire o no? però all'alba di un anno fa io dissi più o meno la stessa cosa poi ci sono ci sono caduto come ma lo possiamo dire o no? è un mezzo corridore dai sì e secondo me è l'esempio perfetto come categoria non è un giudizio capito? cioè è critico è proprio una categoria di corridore è un mezzo corridore può vincere alcuni guardi questo è l'esempio del mezzo corridore il percorso addirittura però è talmente un mezzo corridore che non vince cioè non fa bene neanche in questi percorsi che sono proprio da mezzi corridori cioè è quello che ora cioè questo era proprio un percorso da mezzi corridori no? sì e lui che è l'emblema dei mezzi corridori cioè non riesce più a questo punto però è cioè non capisco ho capito mi trovano le certezze perché un mezzo corridore deve far bene proprio qui come al giro di Polonia questo è un giro di Polonia ragazzi non facendo nulla non facendo nulla facendo probabilmente perché al giro di Polonia c'era ancora meno concorrenza e quindi più non so cosa ha fatto quasi top 10 facendo nulla stava per arrivare stava per arrivare quinto, sesto ma cioè non è che non l'abbiamo mai visto fuori fuori diciottesimo no ho capito ma stava per arrivare quinto, sesto ma è chiuso diciottesimo perché o è caduto o ha avuto una foratura o un problema meccanico a meno meno undici da treguardo non so se se l'hai visto in questo momento è più più corridore da pista cioè lui è in pista è fortissimo ma su strada gli manca qualcosa Vinicio comunque ha dato una bella definizione di Eitan aspetta unisce la tenuta mentale di Rope se la fermezza è in volatina più o meno sì siamo problemi meccanico ci riferisce ma vabbè ho capito ho capito altrimenti sarebbe cascato un meteorite qualcosa del genere non è quello il punto comunque anche nelle altre tappe non c'era mai vincere non ha fatto niente neanche di là a cronometro a cronometro è l'unico che nel momento in cui c'era mezzo asciutto ha fatto schifo io mi ricordo di nomi improbati tipo Julius Johansen sì è un media ha delle capacità medio-baste in tutto cioè medie tipo in tutto capito non ha non ha non ha spunti interessanti in nessuna cosa dovrebbe specializzarsi un pochino probabilmente in cosa però questo nome invece è un fallito cioè per il nome ha fallito Froom non è un fallito questo no ecco vedi qui qui non ci siamo peniati perché il corridore fa l'arte che ha vinto di più in attività quindi esatto non è più un corridore non più in attività in difficoltà diciamo così puoi dire è finito nel senso non fallito ho sbagliato termine i falliti sono altri questi certo non Froom è fallito adesso cioè senti Mirko ma Vine in Australia se ne parla immagino un gran bene io sinceramente non ho sentito molto parlare del Tour Down Under qualcosina quindi cioè ci stai dicendo che neanche l'Australia lo guarda che a nessuno ne frega un cazzo cioè nemmeno all'Australiano e quindi allora perché la fa cioè è quello perché perché conta capito anche cioè c'è tanta gente anche a vedere le gare non so se avete visto e quindi che da dove è uscito fuori il Tour Down Under cioè beh non è vero sui due collinetti che c'erano non c'era qualcuno sì sì su quei punti lì sì però l'Australia è grande loro lo fanno solo lì in Sud Australia è un po' che è una terra che non dice niente anche cioè non c'è molto in Sud Australia ci dovrebbe essere il Tour d'Australia che dura tipo un mese no già basta una settimana quindi dobbiamo fare un mese a farci proprio di vanno in una tappa del Samuane siamo a 70 km dall'arrivo sentivo al telegiornale telegiornale sì sportivo che davano qualche notizia e dicevano che non se l'aspettavano e parlavano un po' cioè che si aspettavano andasse bene ma non così bene come ha andato lui e dicevano che poi raccontavano un po' la sua storia magari qualcuno che non la sapeva che arriva comunque al mondo del ciclismo virtuale e quanto ormai queste piattaforme tecnologie insomma incidono anche su rendimenti prestazioni a livello molto importante ormai ai giorni nostri sì poi sai in Australia sono un po' molto come in America dove a livello di preparazione tecnologia sono molto tecnologici e avanzati e quindi insomma danno importanza a quella cosa lì dicevano comunque io ad oggi sì cioè no se si guarda cioè il punto poi non è il downhand in se per sé a parte gli scherzi ora non è non è che mi voglio accanire contro una corsa in particolare no cioè se fosse di categoria 5 ragazzi no in generale andrebbe bene andrebbe bene perché c'è il guanzi tour no una corsa esotica di fine stagione e c'è il downhand c'è sì corsa esotica e poi anche anche lo high tour no più o meno sono due corsi d'inizio stagione un po' così esotiche un po' per sponsor per motivi politici economici più che ciclistici e va bene però capito ci stanno quello che non ci sta è perché il downhand è categoria 3 perché è paragonato a una tenea di riato e come è possibile quest'osa perché se uno guarda il palmarès se uno guarda anche sì la storia cosa vedi quasi niente vedo ragazzi l'ha vinto poi 2020 Porte Ulisse Porte Ulisse e Gheschke no il podio 2020 poi Inpeyport Pools Inpeyport Tom Yeltel Slug Porte Chavez che poi ha smesso dopo quella gara ha smesso non è uno scherzo Gerrans che fa l'arte è un mezzo velocista che vince e Sergio Enao Dennis Porte Evans quindi praticamente tutti australiani no Gerrans ancora Evans Ulisse Slug Moreno Geranto Gerrans Valverde Machado poi prima Meyer Goss Swift Greipel 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 e ripeto Greipel Sanchez Anderson so chi sia Alan Davis Tuattogredi José Roas Greipel per la seconda volta Davis e Roas poi dopo non insisto perché si va in una cosa devastante no io mi chiedo cioè perché è categoria 3 perché cioè quali sono i criteri con cui non c'è spiegazione attribuisce le categorie a questo punto perché non so Marcello te che dici ma stavi leggendo un ordine d'arrivo di dieci anni fa no sto parlando l'ordine d'arrivo del downhand degli ultimi dieci anni non capisco come sia possibile che questa corsa nonostante ti ho detto se fosse di categoria 5 avrebbe un senso come come il Guanzi Tour o come l'Uai Tour o come Guanzi devi portare rispetto ricordatelo perché noi abbiamo una missione se esistesse ancora qui ti porterei rispetto ora che non esiste posso dire ragazzi è tutta una questione è tutta una questione economica no ma io voglio sapere se c'è qualcuno però allora va bene Marcello economica però io voglio sapere siccome i punteggi lussiai fa un regolamento no punteggi retrocessioni categorie delle gare cioè fa un regolamento bello lungo anche di centinaia di pagine che cambia ogni 4-5 anni che cambia si accorgono che è un regolamento fatto male quindi te cosa ti fanno ti pubblicano questo regolamento nuovo in cui praticamente ti danno le nuove categorie e nuovi punteggi quest'anno hanno fatto sì hanno messo le nuove categorie Stade Bianchi è passata a categoria 4 no a categoria 4 da categoria 5 praticamente l'ha cambiato velo cambiano punteggi delle 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 monumento io voglio sapere una cosa cioè ma dov'è dove sono i criteri cioè io ora nel senso ti dico da insegnanti che se te correggi un compito senza avere una griglia di valutazione il compito non ha valore perché te lo correggi perché non ti piace cioè gli dai 4 perché non ti piace cioè quali sono i criteri dove sono i criteri scritti di valutazione cioè dove sono i criteri per cui una corsa è di categoria 5 o 4 o 3 o 2 o 1 a parte le monumento cioè questi cambiamenti per esempio le strade bianche sono passate da 5 a 4 e questo è giusto no non è giusto neanche bello perché dovevano passare a categoria 3 secondo me magari dicevano allungala di 20 km arriva a 200 km e si butta a categoria 3 però io dico allora c'è una commissione di persone che si mettono lì al tavolino e dicono secondo me le strade bianche deve passare a categoria 4 ma da lì è bellino non ho capito è roba del genere le strade bianche le devi equiparare alla gamve velgem hanno due storie diverse però sono gare simili nel loro nel loro blasone cioè per me le strade bianche devono essere come la gamve velgem punto per come la vedo io eh vabbè sbaglio sbaglio lui infatti perché cioè io devo dire se te se te fai dei nuovi regolamenti devi far vedere come l'hai fatti perché una gara ha categoria ha una certa categoria e un'altra ce n'ha un'altra perché qual è il motivo cioè ci devono essere il motivo se no ecco se no allora si torna come dice Marcello che funziona sì non li possono rendere pubblici questi criteri perché sono semplicemente economici o di storia oppure economici cioè io pago per avere una certa categoria certo ma è così cioè io pago per la categoria non per essere inserito nelle world tour per avere una categoria cioè oppure mettiamo così il Guanzi Tour la Cina ha pagato 10 milioni di euro investimento quindi è categoria 5 l'Australia ha pagato 30 milioni di euro e quindi va a categoria 3 è così no lo chiedo è una domanda che vi faccio a voi può essere può essere però esistono da qualche parte dei criteri non ci sono tante altre spiegazioni no io voglio vorrei sapere se qualcuno sa magari che io sono ignorante magari e mi sono sfuggiti questi criteri di attribuzione delle categorie di importanza delle corse forse non l'ho trovata io l'unica cosa che credo è che effettivamente in Australia se non metti una categoria decente effettivamente non ci va nessuno anche per se la verità va bene va bene anche perché a livello di voli e jet lag c'è un disastro una settimana e mezzo per adattarsi quando arrivi qua dopo quando vai di lì c'è un'altra settimana e mezzo sì ma puoi importarla tutta la roba lì le bici sono aumentate le spese figure però ragazzi ora non è un accanimento contro D'Arande guarda davvero non ci siamo capiti cioè io vorrei sapere perché le corse hanno cioè quali sono i criteri di cambiamento delle categorie di impunteggio per esempio cioè perché la Stade Bianca è passata a categoria 4 ma dove dov'è la delibera tipo dove è stato deliberato l'intento hanno dato un regolamento già fatto è stato deliberato in quale riunione e cosa è stato qual è il verbale cosa è stato stabilito devi andare sul sito credo dell'Unione Ciclistica Internazionale dove dovrebbero esserci queste regole c'è scritto infatti magari mi manca magari ho detto se qualcuno lo sa me lo dice e ci vado cioè era più un appello capito se qualcuno magari sapesse qualcosa voglio sapere dove è stato stabilito è che la Stade Bianca passa da categoria 5 a categoria 8 e perché sarà stato stabilito in una riunione o ci sono dei punteggi automatici non lo so è una questione di costi e di opportunità del fatto che le squadre devono andare in Australia hanno delle spese da sostenere quindi per invogliarle da andare dove è scritto no è un'ipotesi che stanno facendo in chat cioè è l'unico modo io voglio sapere se queste decisioni vengono vengono prese così senza dare spiegazioni in riunioni segrete oppure se è possibile siccome è un organismo internazionale dovrebbe la trasparenza dovrebbe essere proprio una caratteristica degli organi pubblici pubblici trasparenza cioè io faccio una riunione in cui faccio una delibera in cui faccio passare la categoria qual è Uzi che è esperto di organizzazione di eventi è abbastanza sicuro che ci sia allora infatti ma io l'ho chiesto era una domanda la mia perché vorrei andare a vedere i criteri e a quel punto lì vorrei vedere il downhand e se li soddisto a questi criteri per esempio sul chilometraggio non ci siamo credo come no ma comunque sendo inizio stagione sul chilometraggio non ci siamo sulla start list nemmeno beh quest'anno era già meglio rispetto al 2020 ma te la c'è sta quest'anno te guarda da quando è passata Greipel non ci sono mai sta ha vinto Greipel Greipel qualcosina ha vinto sì ma ha vinto una corsa a tappe una corsa a tappe due pole visto che per i velocistici ci sono sempre meno corse a disposizione perché gli arrivi li mettono li mettono sempre quasi molto spesso in salita e anche qui anche qui per i velocisti c'era poco c'era poco 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 poi bagarda all'inizio quindi era difficile a parte che il livello comunque anche dei velocisti a parte Iwan non ricordo un altro nome di spessore di velocisti però gli altri due calibri forti i velocisti hanno deciso di andare in Argentina perché ci sono mille tappe per i velocisti esatto a combattere in Argentina non so se hai visto c'è un gran premio della montagna di terza categoria che non mi ricordo se è 200 metri allo 0,5% l'Argentina è tutto particolare fidati per me la stagione inizia il 2 febbraio con la guardia andalosia Marcello sei stato in Argentina ma è tutto in Argentina quelle forze lì l'anno scorso la Valenziana c'era una bella statica io ho sbagliato io ho sbagliato io che poi non la Valenziana di oggi no no le corse a ta cioè quelle che hanno almeno delle salite che si possono chiamare salite si chiama Santos poi Santos tour down and perché fanno un festival del ciclismo lì ad Adelaide che si chiama Santos in cui fanno esperienze per i bambini in bicicletta e esperienze di vini si insegnano a come farli cadere ti va a bere qualcosa da qualche parte di lì vittoria contro avvestari di spessore ho visto Boassonagen terzo secondo Jente Biermans quindi c'è una vittoria che dice tanto secondo me Boassonagen terzo Biermans secondo ma io ho visto Boassonagen secondo io fino al primo ho visto Boassonagen magari hanno fatto il photo finish per il secondo posto Moulin Jordi Meus come sta a news non corre la cade l'evan no sta non lo so non penso non lo so c'è una commozione cerebrale cioè Jordi Meus si sta recuperando in vista della prossima caduta mannaggia sta cercando di ritrovare la condizione ottimale per poi ricadere clamorosamente alla prima corsa che farà io l'ho preso in campionato ma non l'ho schierato perché lui è uno dei pochi che aveva un calendario già abbastanza completo per legare fino all'ombra che verrà ci saranno delle X su quel calendario verrà depennato mi sa che ne salterà un po' vediamo quando potrà ora non lo so commozione cerebrale ci vuole un attimo no non è niente guarda Matthews quando fece la commozione cerebrale non mi ricordo dove dove era la pariginizia poi poi fece la Sanremo poco una settimana dopo mi sembra arrivò anche bene tipo nei primi dieci quindi non è un gran che ma tanto a cosa serve scusa rientra e poi puntualmente si schianta forse farebbe meglio veramente prendersi un periodo di pausa un periodo di pausa lungo dieci anni fino a quando poi non smette Berta facciamo vedere i top che dici si spero che vediamo se aspetta fermo un attimo io volevo prima un commento di Marcello sul Don Ander perché lui sta zitto non mi ha dato tanto supporto ma in realtà in questi giorni stava in chat a lamentarsi di offendere la corsa e però ora faceva finta di nulla che cosa che cosa te del Don Ander cioè in questi giorni ti ho visto che stavi lì in chat e stavi a offendere la corsa e ora però che non mi hai dato tanto supporto in questa cosa no io sono io sono preso male dalle wildcard del Giro d'Italia la corsa il Don Ander credo di aver visto 20 secondi su YouTube la sceneggiata di Betty Hall basta non ho visto nient'altro eh sì quella è interessante anche quella cioè non ho visto nient'altro cioè ho visto tanto tennis tanto tennis io mi alzo le quattro e mezza tutte le mattine guardo tanto tennis sono incazzato con gli italiani guardo tanto tennis però il Don Ander non ho visto assolutamente niente fedele alla linea degli anni passati cioè che non vedo niente del Don Ander basta neanche il cane di Matthew hai visto? cosa? il cane di Matthew il cane sì era forse l'unica cosa interessante cioè la cosa interessante era dove ha comprato quel cappello e quegli occhiali se li hai fatti fa su misura? secondo me sì perché erano perfetti quindi c'è qualcuno che vende occhiali per cani e cappellini per cani quando vogliono si sono malati vendono tutto per cani sì ma ci confermi allora che dopo aver comparto il negozio sotto casa business vediamo se ritrovo la foto perché era divertente davvero? c'è occhiali per cani e cappellini? c'è di tutto i cani sono veramente super seguiti Miguel Angel Lopez potremmo cominciare a vendere anche cani oppure cappellini ma non che cappellini cappellini per cani per cani sì ecco la bicicletta ti giro la foto Berta se poi dopo i top e flop riesci a farla vedere ma scusa prova a farla vedere tu non riesci poi condividi presenta provo comunque si parla molto di più si parla molto di più dell'Australia no perché non beh vorrebbe vedere ma secondo me guardano di più Diamanti giocare a calcio nella AFC cioè hai visto il gol ha fatto? eh cioè in Australia adesso c'è il tennis tutto il resto non esiste non gliene frega niente a nessuno vero vero sono presi male per Kyrgios per Kokinakis però c'è il tennis esiste solo il tennis e quindi hanno scelto di fare la corsa di ciclismo proprio in quel momento lo vedete? c'era anche in Argentina uno così c'era anche in Argentina un cane così meraviglioso cappellino nascello Holmes cappellino nascello Holmes e occhiale da sole hai capito perché il downhand io spero che arrivi Frank in Australia e lo vado a beccare Matthews hai capito perché è categoria 3 hai capito perché Matthews vince una volata da 10 anni perché c'ha un cane sulle spalle che gli pensa ha paura di perderlo capito non si vede mai da dietro perché in realtà lui fa le volate col cane dietro capito quindi non c'è verso di vincerne una ma ragazzi domanda di servizio la fa vedere lo sport si Discovery siamo a 56,5 km dal traguardo questa scommessa me la son persa comunque non 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 Willy dici in cosa consisteva perché dato che si tratta di una birra donata comunque mi interessa più di più di tante altre cose mullà no è una categoria leggermente superiore leggermente superiore mullà oggi ho bevuto le birre cinesi ho festeggiato il capodanno si cintao cintao si la cintao e poi un'altra del nome improponibile era anche buona le ho bevute 3 o 4 non sono male no sono leggerine tranquille dire il penne come padri a casa del cane è bella era questa la scommessa di top 10 non ricordo che ha fatto top 10 no qualcuno sosteneva nella chat della lega che arrivava nei primi 10 ah se no mi donavano una birra vabbè ma la segno poi qualcuno non so non so chi me la dovesse va bene Berta facciamo vedere per la corratec no non lo vogliono non lo vogliono siete sicuri così pare le varie con fratello corso per loro comunque questa cade l'evan non c'è neanche scusè scusate ma non sono gli stessi che la fanno cioè mandano gente nuova no e allora manca qualcuno è il figlio di Greipel non c'è come Alpesim gruppo ma non c'è torna a casa tra l'altro cade l'evan categoria 4 tra l'altro senza nessun merito sportivo no 5 ah era 5 no vabbè quella sì sono io che sono prevenuti quasi long la fanno su un percorso mondiale no? sì tra l'altro c'è una salita che c'è un chilometro non so se è quello esattamente sbagliato no dico io non sono gli stessi che manderanno mica gente nuova per fare la cade l'evan no Jumbo Jumbo Alpesim gruppo ma non ci sono cioè proprio non ci vanno sì no capito ma siccome vedo alcune squadre che sono incomplete che fanno mandano tre corridori cioè non ho capito perché saranno le stesse squadre scusa al massimo sarà una giunta ma mandano uno forse l'hanno portato in Australia hanno già portato i corridori quindi fanno un cambio sono già previsti perché non c'è cioè perché in alcune squadre tipo la Ineos non c'è ancora la squadra per la cade l'evan cioè saranno gli stessi dicevano che Sheffield potrebbe tornare in Europa per preparare ho capito avranno portato un sostituto ma sarà già programmato non è che chiamano da casa per venire in Australia ora chiamano Puccio al volo quindi dovrebbero già saperlo chi c'è no? però scusa chiamano corridori solo per una corsa in Australia secondo me non c'è un uomo ma l'hanno chiamati già sono andati lì poi magari fanno una sostituzione ma lo sanno già non è che è quello che dicevo io non è che perché non ci sono ancora c'è la Bolton però che corre sì c'è la Bolton con Aram Kidd sì il grande il grande esortio Bolton tra le professional eh sì Bertha parlaci di Moscon dato che è uscito ora no Moscon si è caduto secondo me nella seconda tappa quando più o meno metà tappa e si teneva la spalla clavicola rotta e ci rivediamo tra un mese quindi anche quest'anno abbiamo il motivo per cui ci vediamo la prossima stagione penso di sì io io in campionato non l'ho preso però no no nel senso ero ero discretamente fiducioso in realtà beh anche quest'anno invece si dirà vabbè c'è stato visto e quindi l'unica cosa positiva è come come dicevo in chat l'altro giorno è che essendo comunque che tra il down under e le prossime corse discretamente importanti c'è un po' più di tempo è meglio adesso che che tipo all'omlock o alle strade bianche certo che ogni anno lui ne ha sempre una certo poi ce ne ha sempre anche lui ce ne ha sempre una sì vabbè ma Cycling Fever non mette non so perché non mette più non mette neanche le start list di questi cari qui di giornale ah sì l'avevo visto l'avevo visto anche io quando cercavo stiano per chiudere non abbiamo qualche problema o le due per abbonati i loro snobbano il down under è un servizio per gli abbonati Piganzoni è venuto se non mi sbaglio è venuto con noi anche in live l'anno scorso sì sì lui è un ottimo uno dei buoni prospetti italiani che abbiamo ragazzi ma questo Tiberi l'ultimo tour dell'avenir questo Tiberi che il down under ha fatto benino sì sorpresa no no più che benino è stata una bella sorpresa Tiberi sinceramente non ci credevo invece è partito col piede giusto poi aspettiamo come dicevo prima secondo me visto anche gli ordini d'arrivo fermi fermi ora comunque c'è una c'è una start list decente ora della c'è una no su plus second stat c'è già più mi sembra già un po' più rinfoltita sì un po' più completo minimo non proprio del tutto ma comunque più o meno dai più o meno sono quelli comunque la Ineos può tranquillamente non c'è Sheffield? no Sheffield no poi si è fatto anche male fra l'altro si è fatto anche male Sheffield e è cascato se c'è la ginocchia come è cascato? questo l'ho visto io non ho visto un minuto ma l'ho visto io ha fatto una caduta e tra l'altro secondo me se non fosse caduto forse avrebbe lottato per la vittoria ma quando è caduto? è caduto in una volata inutile no in una volata inutile quella lì ma se che vuoi dire era tutto fasciato poi ha corso tutto io fasciato non l'ho visto vai su Instagram lo vedi c'è c'è è vero comunque dopo si è difeso si diceva anche che non era sicuro neanche di continuare poi si è difeso però sicuramente non era non era al massimo capito? ovviamente comunque al momento della Ineos per la Cadele Evans mancherebbero Sheffield Thomas che torna l'opera sicuro via metti start list dai poi si chiude il discorso no potremmo fare i primi top e flop vai via vai fai top e flop fai top e flop allora non so se ci saranno polemiche però no ma le polemiche ha detto il capo che non dobbiamo rispondere il Pippo Baudo di Phantasycling ha detto che non dobbiamo rispondere ah flop prima ok no come volete top top via vai vai in più 4 Sheffield no aspetta attenzione la regia non funziona ah però che effetti speciali ah lascio pure la grafica a memoria non me le ricordo Sheffield più 3 oh beh così dai Simon Yates e Bistrom più 2 con Tiberi anche più 2 Schmidt Bilbao Bettiol Cocard Hugo Page e Penoe Penoe più 1 andiamo i flop si qua non credo che ci sia molto da dire i flop Ethan Eiter meno 2 io avrei dato anche un meno 3 visto il costo costa 20 c'era il dubbio Indley e Garen Thomas meno 2 Shackman Groves Offsetter Cattaneo Storer Meus Thyssen e Vanderhorn meno 1 io l'unica cosa su cui sono in disaccordo è quel meno 2 e Eiter avrei dato meno 3 perché effettivamente non si è mai visto e visto che i bookmaker l'avevano dato come favorito numero 1 a 3.50 per vincere il down under sinceramente si aspettava molto molto di più ma tanto le previsioni che abbiamo fatto è che lui arriverà a 10 alla fine dell'anno quindi vai tranquillo che no il prezzo sarà 10 alla fine dell'anno quindi vai tranquillo che se non è ora alla prossima invece voglio chiedere su Plap perché so che qualcuno su Plap ha trovato così un po' da dire sul fatto che non sia stato abbassato non si è abbassato perché costa 5 e poi ha fatto fondamentalmente il gregario però visto avete abbassato altri come? 4 3 no no Tissen 5 perché è sempre per terra e Plap secondo me ci poteva stare anche lui però abbiamo immaginato che può essere utile cioè comunque può essere utile per la stagione e quindi abbassarlo cioè nel senso comunque con uno che costa 5 cioè ha fallito aspettiamo comunque un attimo aspettiamo un attimo cioè poi magari cioè se ogni gara poi locali poi va a 0 cioè nel senso capito uno che comunque costa già poco personalmente è stata una delusione enorme chi? non è buono la delusione enorme io guarda dei trader la Ineos ero tentato di di non di non mettere cioè di prendere un altro al posto suo Bertà quando all'inizio si diceva la Ineos c'è una squadrona invece c'aveva una squadra di merda detto proprio finemente così sembrava una squadrona invece era una squadra di merda è la verità inutile cioè era una squadra di merda perché poi sono stati salvati in corner da Sheffield perché poi per il resto non è disfattato da uno Sheffield si rotto pensate Thomas è andato a fare insomma un po' di di allenamento perché Thomas si sapeva cioè chi si è preso Thomas o non ci ha ascoltato oppure ha voluto suicidarsi perché Thomas era ampiamente prevedibile infatti Thomas per il costo punti fatti si meritava anche ben più di meno due però diciamo che la Enio se tanti giorni però davvero lavorare parecchi invece insieme ad aver visto anche lui anche lui non è stato penalizzato più di tanto perché con una categoria 3 chi ha veramente fatto male sarebbe dovuto essere il discorso è che se te costi più di 30 e ti presenti a una gara che comunque è di categoria 3 non ci vai se non ci vai non cali però se ci vai non è che dici ma a me non è frega niente peggio per te nel senso se ti presenti a una gara come la Tirena Adriatio no e fai schifo cali perché costi tanto e cali poi vincitore il Giro d'Italia non si può presentare alle corse così senza no beh però attenzione Inri non ha fatto come Thomas siccome lui sai perché si è presentato perché l'hanno pagato no perché l'hanno pagato ferma 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 è la verità l'hanno pagato perché chiaramente è l'osteano più famoso di quest'anno l'uomo a livello di ciclismo ha vinto il Giro d'Italia e l'hanno pagato so che non avete visto le gare le tappe però Indley vi assicuro che non ha fatto come Thomas cioè comunque qualcosa ha fatto vedere una tappa è stato con 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 Yates e con Vine all'inizio stamattina è arrivato settimo ottavo il problema è che non aveva le gambe adeguate quindi non ha non ha avuto costanza però qualche briciolo di di risultato l'ha fatto però ha preso meno due come Thomas non c'erano salite cosa scusa però ha preso è meno due come Thomas però Indley che più o meno hanno lo stesso costo costano costano tanto costano tanto cioè Indley secondo me era anche è chiaro che l'anno scorso ha fatto un sacco di punti però per il suo valore come lo vedo io era leggermente sopravvalutato quindi neanche io mi aspettavo chissà cosa da lui secondo il ragionamento su Indley anche Thomas andava a penalizzare si è penalizzato Thomas infatti l'abbiamo penalizzato meno due certo che però non si poteva dare più di meno due perché tu alla fine Thomas lo conoscevi che non avrebbe portato punti quindi se l'hai preso cioè però meno due mi sembra e perché meno due Hater perché costa abbastanza meno di loro e quindi e qualche punto Hater comunque di Riffo o di Raffa l'ha fatto l'ha fatto quindi certo era il favorito moralmente poteva anche starci un meno tre però se agli altri dai meno due non puoi dare meno tre a Hater che comunque un minimo di punti li ha portati e che costa di meno quindi alla fine abbiamo dato abbiamo dato un solo monico meno due a tutti e tre su Kale B1 invece siete stati buoni siamo stati un po' in disaccordo la maggioranza ha vinto lo zero io avrei secondo me ci stava per lo stesso ragionamento che si è fatto con Inter però c'è il limite ha fatto comunque 150 punti un secondo allora se avessi avuto un prezzo di 35 sarebbe calato che costa 27 ha fatto 150 punti in una gara che non era né per scalatori né per velocisti non si sa per chi era e quindi comunque si è salvato un calcio d'angolo nel senso ha fatto proprio il minimo indispensabile però qualcosa ha fatto e non è che fa il tempo a calare figurati faccio l'ultima leggera polemica sui top flop io prendendo lo spunto da quello che dice Davide che può essere anche giusto però ragazzi ricordatevi che l'anno scorso ci avete chiesto di cercare di allargare il più possibile anche sui corridori che costavano poco di allargare i giudizi questa volta perché altrimenti si cambiavano sempre quelli che sempre gli stessi e i soliti andavano poi andavano al pari di gente che non aveva mai fatto nemmeno un piazzamento tutto l'anno allora io sinceramente ero per mettersene altri due o tre soprattutto è chiaro che se te levi se te fai un meno 5 a Thomas ti faccio un esempio per il down under sbagli perché rende accessibile l'includore che il down under proprio lui del down under non sa nemmeno se non sa nemmeno Thomas cioè era proprio l'ultimo dei suoi pensieri capito quindi c'è un errore abbiamo cercato di venire incontro alle molte richieste che ci sono state di allargare il range di quelli valutati chiaro stando nei limiti dell'equilibrio comunque tra le plus e le minus per quello che mancano magari giusto che sarebbero meritate però dal momento che tu dai meno uno e più uno a gente che costa 5-6 dai 5 ai 10 però non puoi non puoi andare più del del 2-3-4 per gli altri cioè capisco che non c'è la proporzione però se si decide di valutare anche quelli che costano poco cioè non si può dar meno uno a quelli che costano 5 e meno 10 a quelli che costano 30 altrimenti sfalzi il gioco altrimenti se no funzionerebbe come l'anno scorso che sotto i 15 a meno di cose clamorose non si carano Eiter sarà da vendere il prima possibile perché il prezzo crollerà a dismisura si Davide è stato e Cocar più uno Cocar più uno bisogna venderlo perché tanto lui penso che poi farà la pariginizia probabilmente no? al nord non corre la Ineos non ha bisogno di un corridore così per le gare del nord no fa la pariginizia però la pariginizia io non lo vedo bene cioè nel senso impegnativa magari può fare punti in qualche tappa ma poi la classifica generale la pariginizia non è il tour d'au d'ander è solo che poi no dai Eiter secondo me era l'elemento prima che iniziasse il down under era l'elemento che doveva avere per forza per il down under e poi erano qui cosa costava 28 28 28 e adesso sono 26 che ti servono per comprare uno di classifica tra la Tirreno Adriatico e la pariginizia e Eiter si riprende per il Polonia direttamente tanto tanto faranno un Polonia senza nessuno farà invece vincere altre tappe e ci smentisci tutti io cioè su anche su Eiter io lo dico dall'anno scorso io però starei attento per i giudizi troppo negativi cioè aspetteresti di vederlo ancora e gli dai una chance secondo me è quel corridore lì cioè però la cosa che non capisco mi aspettavo di più però però cioè i bookmaker quindi gente che insomma sulla carta qualcosa ne sa quando fanno se lo aspettavamo tutti almeno nei primi termini perché pensavamo facesse pensavamo facesse una crono in cui dava 10-15 secondi a tutti e poi li avrebbe gestiti cosa che invece ne ha presi 20-25 non mi ricordo neanche quanti e quindi dopo per Eiter poi mancava anche il terreno nel senso se parti con 10 secondi Eiter è uno che te ritiene perché è abbastanza veloce comunque per le collinette che c'era non resiste però se parte dietro come li guadagna che in volata non fa le volate solo quando ci sono 15 corridori sì in volata di gruppo in salita non è che ti faccia la differenza mi ricordo cos'è stato la Parigi inizia l'anno scorso che le prendeva da Van Aert insomma tutti i giorni ha fatto un sacco di piazzamenti è vero si piazza fa punti però non ha quello spunto come può avere un corridore insomma di valore di assoluto valore è sempre né carne né pesce la classifica invece è Matthews se non avesse avuto il problema meccanico alla terza tappa quella dove c'era la salita dura no alla seconda se avesse potuto provare a fare la classifica secondo me no perché io soprattutto nella volata che ha vinto Cocard io l'ho visto veramente male Matthews non è una novità spremuto in tutti quelli sprint anche perché aveva già il cane aveva già il cane attaccato e poi non serviva assolutamente a niente perché tre secondi tre secondi ragazzi in una corsa così poi dopo li perdi parte che loro alla fine poi dopo ti basta uno scatto di Vine uno scatto di Yates e altro che tre secondi loro avevano comunque la doppia carta per la classifica quindi con Simon Yates se Matthews andava c'era qualche problema puntavano su Yates che non ha fatto male ha fatto il suo Cocard comunque ha avuto una strada importante a tappa gavito cioè qual è un po' la tua ecco Cocard ha fatto una gran bella volata cioè proprio ha staccato di ruota a parte lontano io avevo un mezzo dubbio di prenderlo però poi ho considerato chiedere è quel mezzo corridore cioè mezzo corridore no ma è quel corridore con le caratteristiche che non sai dove ti può fare dove ti può far punti dietro di lui è arrivato Bettiol quindi concorrenza e nulla di Bettiol anzi Marcello Mulla Bettiol chiedere a Marcello vai chiedere a Marcello c'è stata un bel po' di polemica sul sul suo gesto ma soprattutto ho visto diverse interviste anche di ex corridori italiani che hanno insomma l'hanno attaccato bene da Bettini a direttori sportivi che dicevano che doveva essere squadra in Italia non siamo bravissimi a fare squadra in queste cose ma ha ragione Bettini ma ha ragione Bettini cioè devi imparare a comportarti tanto sono arrivati 5 ma te hanno pagato la birra eh ah era lui che doveva pagare la birra ma non lo so nulla ti zanzo a quei soldi se li rubo io i soldi no devi imparare a comportarsi cioè anche devi comportarti bene ti devi comportare bene non puoi avere questi scatti non esiste cioè sei un corridore professionista sei pagato per fare questo fai il mestiere che hai sognato nella vita ti devi comportare bene punto basta gli scatti d'ira le sceneggiate queste boiate qua te le fai chiuse in casa non le fai davanti alle telecamere davanti a tutti ti devi comportare bene punto a maggior ragione sei anche uno che ha vinto il giro delle fiandre e quindi devi comportarti ancora meglio cioè punto non esiste probabilmente in altre altre corse altre giurie l'avrebbero squalificato io non so come mai questo gesto anche perché poi hanno ritrattato gli hanno dimezzato la pena cioè sembrava di stare a forum il programma di canale 5 ma che è sta storia cioè io sono pienamente d'accordo è un gesto che non sta né in cielo né in terra che sarebbe stato da squalifica però capiamo nel senso l'ha capito secondo me anche lui che ha sbagliato quindi anche dargli troppa enfasi secondo me è sbagliato va bene però non lo devi fare ha sbagliato completamente guarda che hanno squalificato gente per molto meno sì sì hanno squalificato gente per molto meno lo scorso anno hanno squalificato gente perché ha lanciato la borraccia a un tifoso oh e char char al centro delle canale cioè non infatti share ma non stia scherzando ma dai sì 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 ha molti volato la telecamera che la riprendeva cosa? sì sì pare di sì pare di sì 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 aveva i crampi era nervosa allora prima l'ha insultato io l'ho visto l'ho visto l'ho insultato l'ho visto tutto e prima l'ha insultato a male parole e poi dopo gli ha tirato la borraccia perché era tipo lì fermo per i crampi e tra l'altro a livello puramente sportivo cioè lui è passato da fare una crono molto buona lascia stare le no ho capito lascia stare ma lui non è male ma lui non è malaccio aspetta aspetta lui non è assolutamente malaccio scusate però lui era partito per fare allenamento con questi presunti capitani tra l'altro era già un'offesa che cioè dire no nel senso ci presentiamo con Sean Queen onore capitano vabbè ok ok andiamo a cassa si poteva dire anche qui però vabbè già quella era un'offesa al ciclismo però cioè lui poi si è ritrovato un po' per fortuna un po' per merito in testa e magari e magari gli hanno stressato per dire ora devi andare perché quell'altro ti fanno schifo poverino è lo stress lo stress se sei stressato vai in fabbrica nel senso che magari stavano lì come se fosse cioè magari quei crampi lì gli sarebbero presi con lui che non si era mai visto in una corsa che non gli interessava e nessuno gli aveva rotto le palle siccome era stato aveva avuto la maglia di Lidia allora gli stavano dietro come di guarda lui era primo ora fa schifo no ha detto proprio finemente è crollato è bollito ma allora magari uno cioè cerco di così no dai è giustificabile secondo me ha visto ha visto l'occasione per scalare secondo me anche qualche gerarchia dentro la squadra e si è visto e se l'è bruciata e se l'è bruciata ma gerarchia con chi? con Sean Quinn? ma chi è Sean Quinn? ma chi è? nessuno ma esiste davvero Sean Quinn? ti ricordi anche tu Mulla che all'inizio la F come capitani ho letto l'intervista anche lui stesso aveva detto che lavorava ma chi è Sean Quinn? e Michel Onore ma io voglio sapere chi è secondo me la ragione di Leo quelli del Molesi che non esistono chi è Sean Quinn? dov'è? esiste chi è? allora dimmi chi è ti faccio una domanda a te Sean Quinn Sean Quinn quanto è arrivato in tutto ciò? chi è Sean Quinn? ma credo che sia ritirato no 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 Marcello chi è Sean Quinn? ma che cazzo le so io sono la verità il quattroesimo è arrivato eccolo grande invece Davide Miller l'ha visto e ci ha visto giusto è uno che ha fatto l'anno scorso qualche piazzamento in qualche volata no no nessun piazzamento quello era Pace chi? chi? ma sei sicuro che Sean Quinn non si è piazzato ma io so chi è Simmons ma chi cazzo è Sean Quinn? è quello che stavo dicendo io come fa quello che è caduto anche lui nella prima volta Sean adesso faccio Mourinho Sean Connery sì ma ho capito che è caduto ragazzi ma è caduto ma a parte che l'anno scorso non ha fatto vedere praticamente niente se non ricordo male ha fatto un terzo posto al Delfinato la prima tappa eh vedi allora che cazzo ne so io cioè non lo vedo il Delfinato poi ha fatto ha fatto due piazzamenti a Romandia sì comunque un corridore giovane 22 anni c'è anche Sean Michael il wrestler esatto esatto un po' più vecchio lui Switching Music oh ma mi stanno stalkerizzando su Instagram quelli della WWF c'è una roba non c'entra niente faccio un inciso veloce c'è una specie di account di nostalgici del wrestling anni 80 grandi questi adesso mi stanno stalkerizzando mi stanno chiedendo soldi like su YouTube qualsiasi roba soldi no ma io adesso li denuncio sì per i memorabilia lì per le cinture per le canotte cioè semplicemente per io ho gli occhiali di Brad Hart quelli che c'aveva Brad Pittman Hart tanta roba che le hanno valutati tipo 150 dollari ma io non li li vendo manco morti che cazzo li vogliono da me vogliono i tuoi occhiali eh vogliono comprare i tuoi occhiali sì ma sono plasticosi li avevo presi quando era venuto il Vrest tipo quelli del cane di Matthews quelli che regalava sempre al bambini quando entrava quelli che in Australia vendono sotto casa in qualsiasi negozio ce l'ha detto ora Mirko noi si pensa che se li ha fatti fa sommisora guarda lì c'è un cane di Mico guarda scusa ma scusa Mirko però c'è qualcosa che non va vedo il tuo cane senza pantaloni giacca cravatta cappello occhiali e sigaro in bocca come male o pipa senza la pipa per esempio è un cane selvaggio questo non costa troppo per essere australiano cioè non è all'altezza perché non è non è vestito di tutto punto eh sì non ci siamo eh devi provvedere devi provvedere devi dare quindi quindi Mirko tu sei se la cale l'Evans ma se se possa il cane chissà immagino che Mirko stia già in fibrillazione per la Cale l'Evans Ocean Race una roba di vela più o meno più o meno manca una settimana quindi sarà una settimana lunghissima non ci passa più possiamo vedere un po' noi ci deliziamo nel trattempo con la Sun One mego io ehm sì vuol dire che porta porta 33 chilometri all'arrivo eh sì alla Velta Sun One ma si vede su Eurosport o no? Discovery 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 cosa vuol dire? L'acqua nel senso hanno preferito il bigliardo no i canali lineari mi sa di no hanno preferito il bigliardo ci sono le freccette le freccette i quarti di finale del torneo di freccette la gara di Ruth Sean Queen è un amico di Stay in Out Marcello un veloce commento su Sin l'ha già detto lui che è un pirla si è autodefinito un pirla per il quinto set ma ora c'è ora dice il mogli ha le soli ma ci sono ora in diretta ma io sono in diretta no ora ma tra l'altro hanno fatto praticamente dalle 7.45 dalle 7.45 che sono in onda hanno fatto l'integrale della prima tappa del pensa a te Duvall mamma mia io con tutto il bene che gli voglio a lui però comunque anche Samuano lo salta anche qui mi spiace 32 chilometri e Tarozzi in fuga Tarozzi però non è riuscito a vincere neanche il traguardo volante che c'era prima ma il destino di Tarozzi è segnato credo proprio che lo riprendano possiamo vedere la starting list della Cadillavans Ocean Race vai prova a condividere tu che io qua con le condivisioni qua sono allora fado a vedere non c'è manco una curva in Argentina penso che però in Argentina ci sono dei personaggi importanti il pittore e Sevilla il giovane Sevilla il giovane Sevilla e bene poi dice far brigare gli altri fuga due Luke Morris ti rispondo e ti dico che nonostante tutto contro ogni contro ogni diciamo ragionamento razionale lo tengo Meus sì è una scelta di vita è una scelta di vita è come chi prendeva carti come scelta di vita è una cosa del genere è una questione d'affetto una strada dita devo ancora fare una curva intanto Miguel Angelopets si collega direttamente dal Sun One ma lui sta correndo perché chiaramente va tranquillamente dovunque tanto lui allora la vedete male 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 piccola aspetta devo provare a no devi secondo me ingrandire su esatto così spostati a sinistra però così però non mi fa andare a sinistra perché la missabongo domani anche ecco così dovrebbe ma cazzo ma c'è il golf al posto di Sun One se tutto tranne la Sun One la famiglia era il wrestling al posto della Sun One che cosa che cosa Mulan Star One si Discovery per l'app perché Marcello dice c'è il golf no ma nell'app ma io sto usando le password di Marrucci da Zone no ma Marcello secondo me sui canali lineari non c'è Marrucci ce l'ha Discovery eh non lo so là chiamalo prova a scrivergli che chi ha allora eh ma se dimenticiamo dicono dalle 23 su alle 23 no aspetta 10 minuti Marcello alle 23 dormo già io sto vedendo già su Gisena ma tu c'hai craccato c'hai pezzotto no Gisena farà la live integrale no io io c'ho io c'ho l'app sinceramente mi trovo benissimo perché posso guardare la roba quando mi pare basta isolarsi posso guardare tutto quando mi pare ma adesso chiamo il magro faccio dalla passione non è difficile categoria qua categoria 2 2 e mezzo 2 e mezzo a quanto pare ragazzi commentiamo un attimo ha buttato giù il telefono il magro dai beh in diretta non lo so io non lo so pensavo c'è queste panchette sì no no c'è Gregorio Magrini ecco perché io avevo perso un po' l'orario allora 176 km la Cadelevan Ocean Race ragazzi attenzione perché c'è uno strappo impegnativo metà percorso più o meno sì ragazzi Gregorio Magrini Gregorio Magrini sì ho un circuito finale tra volte integrale da 15 minuti prima della tappa allora faccio un pronostico su questa Cadelevan se ne arrivano in volata o no sì scuola da ristretta sì che entusiasmo la vita ma dai Viviani sì lo so però non vedo grandi squadre di velocità io dubito fortemente ma chi sai perché non vedo squadre che possono tenere la corsa dubito fortemente perché se vai a vedere l'altimetria a parte l'altimetria aberta ma più che altro potrebbe essere anche piatta chi tira chi secondo me tira la bike exchange la Polonia per chi tira la Polonia questo è il percorso c'è quello non è sempre se salita inutile ok ok però chilometro e tre al sette nove c'è gente come il meteo chilometro e tre lo prendi di slancio arrivi in cima e meteus lo fa dai cosa scusami perché non ti ha sentito meteus lo tiene un chilometro e tre all'otto per cento e questa è la salita però c'è il cane però c'è ah no questa è la salita questo è il definisce la dove arriva l'ultima e la rampetta a 11,2% quindi non si arriva in volata però coloro l'hanno tolto apposta se non lo sanno neanche loro dove dura perché non è in realtà non è una salita dai ristretta però secondo me è volata non di gruppo allora questa secondo me assomiglia molto al profilo della seconda della sì della seconda tappa del down under quella che ha vinto Dennis con una salita di un chilometro abbastanza dura a cos'era una ventina di chilometri all'arrivo poi dopo strada un po' tortuosa e non li hanno più ripresi peraltro peraltro la Jumbo Visma non c'è neanche esatto quindi nove chilometri dall'arrivo in cima no e lì non lo so quanti effettivamente mancano siccome è meno 9 come 20 no hanno detto siccome è meno di 20 diventi questa attimetria che poi danno 186 chilometri ma c'è scritto 189 sulla cima è a 9 chilometri 189 179 invece che 179 avesse più o meno 9 chilometri sui 6 o 6 9 chilometri non so perché infatti 176 179 ma si 3 chilometri più 3 in meno io la volata non lo so io non la vedo corsa dura quindi ragazzi io vado a dormire la Cadelevas mi ha fatto calare la palpebra Marcello tra dieci minuti c'è il San Juan guarda sì ma me lo guardo nel letto sperando che funzioni va bene va bene va bene il banco mi ha risposto male ecco ti ha mandato anche il paese praticamente sì attenzione attenzione dal reto del ristorante no no sono a casa buonanotte belli ciao Fede salutami da Juve ciao Fede vai in culo vai ciao 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 è già finito la cena pensavo che fosse una cosa più lunga no le minus ciao Mirko com'è in Australia che ore sono laggiù mi sta caldo 8 nel sotto quanti gradi fa 25 pezzo di merda pezzo di merda qui siamo a meno 5 grazie Mark Carnavalle Fede più uno purtroppo sì ragazzi come si fa bisogna trovare un qualcosa per non invecchiare come si può fare bisogna trovare ragazzi la prossima app che faremo è l'app anti-invecchiamento più uno io voglio fare come Benjamin Button voglio morire vecchio cioè no voglio morire giovane scusi voglio morire giovane auguri da ore non hai un cane non hai un cane e non hai ce l'ho 4 di cani 4 ma non sulle spalle a casa mi ragazzi c'è 4 cani e quindi come si chiamano Ivar Ramiro no uno si chiama Bimbo e questi cani hanno per caso un cappellino e degli occhiai da sole o no perché questa domanda si è successo io te lo chiedo io te lo chiedo e questo è il nuovo tormentone dell'anno per me è successo Lopez cosa ha fatto Lopez che l'ho non ha fatto niente ascolta ce l'hanno il cappellino e gli occhiai da sole o no i tuoi perché se no non sai nessuno ah questo è Matthews mi sembra non sai nessuno non sai nessuno è Matthews Matthews che è la tua non ha vinto cioè il cane cioè se te il tuo cane ne ho appena anche gli occhiai da sole personalizzati e il cappellino su misura non sai veramente nessuno sei veramente un fallito sei il cane il cappellino no e vi volevo dire Matthews che tra te cose ne avete detto che è stato graziato perché ha vinto quella maglia a punti così a caso diciamo ho capito ma corri te col cane sopra gli occhiai e il cappellino non ho capito e poi nulla nulla a parte che ho messo nel gruppo il gpm che ci sarà fra due tre giorni alla vuelta San Juan che penso sia il gpm più spandaloso della storia del ciclismo proprio una roba sì no ma il ponte il soprapassaggio di fornacette è il mortiloro in confronto è una roba infatti no anche lì purtroppo mi dispiace ma non salto salto anche quella io ti ho detto parto con le corse spagnole come tutti gli anni dove ci sarà anche l'Ande volevo dire una cosa tra l'altro Murlatti ma te la escurso sul tour da un Ande la maglia dello scalatore doveva essere data a Vine no a Onoré a parte che Onoré è stato scandaloso per tutta la competizione punto però tra l'altro oggi non è riuscito neanche a beccare qualche punto l'ha fatto no però scusate il com a Casamina sta alla fine della salita la fine della salita è che vado a vedere perché Vine essendo arrivato secondo di tappa non ha preso punti com questa è la domanda che io non ho riuscito perché nell'ultimo giro non era com nell'ultimo giro non era com ah ok ok perché perché cioè praticamente la salita si trasforma cioè un giro è com e un giro non è com perché se vi spiegate ma che senso ha se ha una salita è salita si fa 5 volte ma stai di cosa si sta parlando eh di cosa si sta parlando sì io ho capito beh François io ho capito però se te dai su due passaggi i punti se gli altri tre passaggi sono sulla solita salitella i punti devono essere dati dalla prima al quinto passaggio mi pazienza cioè io ce l'ho con belli io ce l'ho con l'organizzazione da un anno che l'unica salita decente c'era in tutta la competizione l'unica perché Villunga me l'hanno mozzata no l'unica salita decente era quella della tappa 3 quella di oggi un chilometro in me un chilometro in me no quella di oggi sì ho capito ma ripetuta 5 volte la tappa aveva 2000 metri di dislivello effettivamente c'è stata selezione alla fine no la tappa è stata divertente alla fine io l'ho vista l'ho vista l'ultima parte sì no vabbè ma Cocard decimo per tante sfaccettature penso che il Mullal l'ho ascoltata ogni tanto ascoltavo il Mullal l'ha spiegato un po' credo è chiaro che se fai un giro a tappe in Australia dove Mirko ci ha confermato che di salite non ce n'è Cocard in forma decimo oh ragazzi ci può sta che ci arrivi no la lascia però Mirko ci ha confermato anche che lì non gliene frega niente no aspetta a parte che non gliene frega niente a nessuno del Donati in Australia quindi se non ce ne frega niente nemmeno a noi figurati ho detto perché lo fai però diciamo che farlo farlo con gli Australian Open insieme agli Australian Open non è una grande sì va bene tante 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 fessime scelte scusami a Stare l'Open Dennis Dennis io non guardo gli sport minori gli sport del futuro saranno intanto correre con i cani dietro in spalla correre con i cani a presto cioè quello sarà uno sport veramente che cioè andiamo a cercarla sta montagna dov'è Mirko sta montagna scusami io l'ho chiesto ma non mi ha risposto è tipo a me Elbur credo sopra la Victoria andiamo questo po' cosa c'è coccodrilli poi mandiamo gli organizzatori del Down Under dicendo il Down Under però è al sud io la cosa che ho capito stasera che mi interessava è che in Australia ci sono negozi che vendono quei gadget per cani occhiali su misura cappellini io pensavo che lui avesse fatto una buffonata perché essendo comunque un milionario capito avesse fatto questo ordine invece no Mirko ci ha confermato che se te vuoi un cappellino e gli occhiali per il cane li trovi tranquillamente ovunque capito cioè sono i negozi di accessori per cani sono sotto casa Mirko la zona di Canberra non è montuosa sì però non c'è niente quindi non ci fanno niente praticamente Canberra è solamente una zona di controllo territoriale dove è capitale ma come città non c'è molto poi ci sono serpente velenosi probabilmente uno vince e muore quindi è importante tra l'altro oggi non so se qualcuno della chat l'ha notato quando scollinavano dal monte tutta la discesa non si vedeva perché era tipo in mezzo c'era la ripresa dell'elicottero però era in mezzo delle piante non si vedeva niente ma a parte questo Mirko lì in Australia di Hater cosa dicono? niente niente cosa dici? niente che c'era da dire hanno fatto niente no non so magari un articolo di giornale l'hanno riservato nel giornale locale di Adelaide sai quello che danno gratis all'uscita della metro non c'è come a Londra parlavano più di Vine parlavano di Vine non c'è il il Big Issue perché a Londra vendevano regalavano no in realtà si paga il Big Issue che è issue di un problema quindi grosso problema quindi con Hater potrebbe anche starci come il nome di un giornale fuori dalla metropolitana davano il Big Issue mi immaginavo il Big Issue di Adelaide con la faccia di Hater in copertina sicuramente ne avete parlato però poi magari ci vincerà la Milano Sanremo non lo so chi? no Hater chiaramente però è chiaro ha avuto un problema oggi penso Catena non si è capito è caduto Catena Guasto però a parte oggi a parte oggi ha fatto però ragazzi scusate ma se noi si chiama il direttore sportivo di Hater e anche il suo direttore sportivo non ce lo sa descrivere come corridore e l'unica cosa che si è capito è che è uno buono per queste corsi a tappe non troppo dure e poi comunque fallisce anche queste corsi a tappe non troppo dure mi viene veramente la domanda ma che corridore è? abbiamo già risposto questa domanda la posi anche l'anno scorso abbiamo già risposto senza vergogna io ho già risposto senza vergogna dicendo che è il rappresentante massimo della categoria dei mezzi corridori attenzione infatti l'ha preso Pavel nella sua squadra non lo so lui è un mezzo corridore oh Tiziano Tiziano un punto e non so realmente perché c'è questo punto perché ora naturalmente ti ha accettato un capitano la resa dei conti è la prima gara è un punto avanti a me è un punto avanti a me allora è un punto proprio è un punto questo calcolo generale non so che cazzo è successo perché il Berta era dietro di 200 punti io ero avanti di 70 ben o con ma vai in culo te o con sì io ho Dennis che poi non so che un sacco è successo altra inquadratura scusate per capire meglio ecco vediamo bene che questo è l'argomento della serata e questo non so se avete compreso non so se rendo l'idea ma il magro è tuttora in diretta a parlare di una tappa penso commentabile allora guarda le orecchie le orecchie però prende fresco a quelle orecchie lì invece le orecchie servono per le volate potete lì garantita raga ma sui top e flop c'è stata qualche polemica no si plappo plappo ma le abbiamo spiegato perché di plappo più o meno si aperta la spiegata si ma molto a grandi linee no perché ragazzi plapp diciamo è un rimandato era lì lì abbiamo tolto delle plus e delle minus nel senso perché c'erano dei corridori faccio un nome Gorka Isagir che penso che nemmeno lui si sarebbe comprato al fantasy no ma nemmeno lui si comprerà mai nessuna corsa però tecnicamente poteva starci anche il più per Gorka Isagir però abbiamo tolto un po' di corridori dalle plus e le minus per rendere una roba un po' più equilibrata e plappo era nelle minus l'abbiamo tolto perché è un rimandato perché effettivamente è stato che quest'anno cerchiamo come ci è stato chiesto più e più volte di allargare la cerchia di quelli valutati sì anche a quelli vedi Thyssen a 5 6 quanto lo stava che è stato calato perché effettivamente Thyssen si ricasca cioè ragazzi Thyssen ha un buon motore però come ha finito l'anno l'ha iniziato si è praticamente auto eliminato subito alla prima tappa al down under e quindi becca la minus l'anno scorso non l'avrebbe presa diciamo così perché costava troppo poco quest'anno saremo più cattivi però c'è più c'è più c'è più pressione ma guarda su Eater senza crono allora Mullah l'ha detto un'apertura quella non era proprio una crono perché era era 5 km con la pioggia però sarebbe stata però con la pioggia è stato praticamente tutto molto falsato e Eater non è uno che fa ciclocross è uno che fa pista e chi fa pista magari la sa guidare bene la bicicletta ma non è paragonabile a uno che fa ciclocross per dire e quindi secondo me in quelle situazioni lì ci voleva qualcuno che prendesse molti più rischi a proposito di ciclocross oggi Vanert ha ciucciato quando il pull sta bene il vincitore si è scontato ha ciucciato mi sembra che il vincitore si è scontato fermo quando il ragazzo sta bene se c'era un rettilineo di 100 metri più lungo vinceva Vanert come tipo Artur Danone se c'era una salita di 20 km vinceva chi? boh nessuno ma c'è ancora Tarossi in fuga ragazzi o Connor chissà chi? no non lo so se ci fosse stata una salita di 10 km che avrebbe vinto si tutto merito di Cipollini che ha pubblicato oggi un video sul suo canale Instagram che dice era con Vanert 1 l'ho ben capito è in Spagna Cipollini non l'ho capito c'è in Spagna in stagione si allora era pedalare con Vanert la prima curva della tappa è arrivata almeno 23 dal traguardo tu chiamati se vuoi Ruzio cos'è la Ruelta Sam 1 io direi una cosa a prescindere da tutto quando il ragazzo sta bene ma quello si sa ovviamente però rispetto agli altri a parte il percorso di Veneto non mi sembrava così spettacolare come gli altri sinceramente di quelli in Belgio invece secondo me non era male troppo facile perché Iserbert e quell'altro mi spugge il nome quello che è in testa ma era più simile alla strada c'era meno ma te hai visto una gara che quando loro due sgasano quegli altri arrivano lì a 5 secondi io non l'ho mai vista quest'anno quando loro due sgasano e gli altri arrivano a un minuto e mezzo comunque a me degli altri sono una fregagnetta io ne guardo non era Van Turenaut era Sweck perché era quello leader di Coppa del Mù quindi è Sweck 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 io ti dico che secondo me il percorso era facile non avevano le capacità perché il percorso consentiva di staccare tutti e di giocare se loro due e basta anche se poi alla fine si è caduta all'ultimo chilometro loro due si ragazzi Iserbert quando il percorso è tosto Iserbert arriva un minuto e mezzo un minuto un minuto Bertha non te la prendi non te la prendi Bertha io sogno un Van Der Poel che ribatte un'altra volta Van Hart io non sono molto appassionato di pietre quindi non mi non mi esaltano come altri però adesso che ho preso Van Hart sono cioè beh lo so però è solo per questo motivo ma io non è perché se non l'avessi preso come non l'ho mai preso in nessun anno mi sono inserito cioè li vedo 50-50 non ho preferenze no ma io 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 lo vedo meglio lo vedo meglio come vincente per me Van Der Poel è un vincente vero proprio di quelli da classiche è un grande corridore che però non ha vinto niente ancora è continuato ma l'ho detto un detto piano l'ho detto si ha vinto una Sanremo ma che sai anche cosa anche Scholek però è un bel corridore io sono d'accordo con le RR è vero è un percorso che di oggi l'ho visto molto alla veloce perché ho visto giusto degli highlights così a caso e è troppo facile cioè non c'erano non c'erano salite strappi dovevi scendere la bicicletta e camminare in salita come è che Van Der Poel no c'ha quel che da vincente in quei duelli proprio l'uomo da classiche capito quello che c'ha quello spunto ma sicuramente ma guarda Mulla te ciclocross ora noi non abbiamo visto tanto ciclocross siamo onesti però Van Der Poel di 2-3 anni fa Van Der Poel lo mangiava e lo ricacava molto spesso quando era in forma quest'anno la netta sensazione è che Van Der Poel anche quando magari è la giornata che perde bastava un rettilineo più lungo e avrebbe vinto comunque Van Aert ha sbagliato l'uscita di curva ha picchiato nella transenna si è scomposto mi dispiace eh ho capito ma Van Der Poel analizzando vince solo quando Van Aert sbaglia l'ultima curva e il rettilineo c'è contro quando fora 500 minuti all'arrivo si ha vinto Van Der Poel io ti dico quest'anno a ciclocross no no io ti chiedi ciclocross non è uno sport cosa ha vinto non è uno sport cosa ha vinto ha vinto la Milano Sanremo due fiande è una rubella persa e su questo preferirei passare molto ha vinto la maglia verde con i record di punti Van Aert ah la maglia verde ah interessante è nella storia è nella storia Sagan è 67 volte di fila però vabbè l'ha vinto anche lui con il record bravo è un bel colidoro magari se uno è un uomo da classiche potrebbe anche un giorno vincere una rubè o un fiande perché altrimenti non è complicato potrebbe rivelare contro non so se avete capito io sto da quant'è che lo dico sono due anni ormai quindi insisto fino a quando arriverà quel momento in cui Van Aert vincere la rubè o il fiande e comunque sarà solo uno mentre Bonen ha vinto quattro rubè quattro fiande e terrobo però nel resto cioè io dico che arrivare a quattro fiande e terrobo oppure come cancellare che voi dite motorini 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 ma tanto io dico che secondo me è molto difficile che Van Aert arrivi appunto di cosa si sta parlando non ci arriva nemmeno Van Der Po eppure quando c'era Bonen eccetera si parlava di corridori ormai vincevano ora sembra che stiano estraterrestri no ma lo sai perché la differenza vincevano le gare di ciclocross ma che cazzo è ciclocross cioè non ho capito ma davvero guardate quello sport lì ma davvero io una volta l'ho visto tutto ma a capire ho preso una fisipilettia ascoltate un attimo girano sempre in tondo lì con le scale dai ragazzi scherziamo il Moulin non ama il ciclocross no non è che non ama ragazzi ma ragazzi l'invettiva del Moulin contro il ciclocross non è invettiva non ce l'ho con il ciclocross è inguardabile il ciclocross ma allora veramente ci si basa sul giudizio uno dice hai troppo ragione un altro bannate il Moulin subito ma non è che ciò col ciclocross ma veramente stiamo giudicando campioni del ciclismo come Van Aert e Van Der Poel sul ciclocross ma loro sono nati lì in Moulin non sono nati sulla strada attenzione ecco fammi parlare ora ecco perché c'è la differenza tra Bonen Cancellara e loro motorini o meno perché loro sono nati sulla strada Cancellara e Bonen e fino a quando avevano 22-23 anni hanno iniziato a far bene sulla strada questi sono arrivati relativamente ora qualche anno fa sulla strada ma loro sono nati sul ciclocross e facendo tuttora la stagione di ciclocross è normale che qualche anno toppano vedi Van Der Poel l'anno scorso che ha sbagliato a fare quel giro che d'Italia che ha fatto e poi ha rovinato tutta la stagione mi stai prendendo per il culo perché non fanno solo ciclismo loro e quindi non vinceranno per la vita buona nel cancellato mi stai dicendo che i campioni di oggi del ciclismo sacrificano la fianda e la robè per per Benidorm perché a loro piace il ciclocross è insito in loro allora ok sono io che sono fuori dal contesto ma ecco è la verità basta analizzare le cose e chiaramente anche a livello tattico e preparatorio ci hanno tutto un po' sfasato Van Der Poel si è presentato a giro e ha stoppato tutto l'anno scorso perché poi dalla seconda parte della stagione è completamente scomparso quindi Van Der Poel ha sbagliato l'anno scorso ad esempio pur avendo vinto il fiandre è così loro fanno la stagione da ciclocrossisti e poi si buttano sulla strada Van Aert è un fenomeno e ha vinto però anche Van Aert paga sta roba di andare forte nel ciclocross perché sicuramente la pagherà la seconda parte di stagione paga c'è una maglia dell'Italia nazionale italiana ma davvero stai commentando la web allora fermo se si considera il ciclocross per dare un giudizio su Van Aert e Van Der Poel si può fare anche la web per dare un giudizio sul ciclismo quella è ovvio c'è una salita e basta una salita di ciclocross non c'è le salite c'è le scale che si fanno con la bici sulle spalle mettiamola di fare queste buffonate ma è un altro sport non è ciclismo si chiama ciclocross appunto ma questo ma questo si sta parlando di ciclismo o di ciclocross perché io non parlo di ciclismo io parlo di ciclismo e basta mi interessa solo ho detto solo che il palmarès di Buone e Cancellara non sarà mai paragonabile a quello di Van Aert e Van Der Poel che sicuramente vinceranno a livello di Nord perché non fanno è meglio vincere di ciclocross che tre rupiande io non so cosa è meglio vincere però loro due stanno facendo hanno fatto la storia di quel tipo di sport e più segneranno un segneranno una parentesi fenomenale nel ciclismo fenomenale 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 ma probabilmente non avranno il palmarès dei campioni di quello sport come Buone e Cancellara per quelle due tre gare che sta dicendo te quali ci rupè e ronde su tutti ecco sì non credo che Van Der Poel vincerà quattro fiandri e tre rupè non credo poi magari ci arriva ma non credo perché la rupè di Van Der Poel la dovrà vincere quando la vinta finale Van Arte non è più forte di Cancellara Van Arte non è più forte di Cancellara tre rupè percianandre contro 0 fiande 0 rupè ma 46 gare di ciclocross per me quello lì è un grande ciclista quell'altro no quell'altro portava il motorino questi lì loro sono fenomeni rispondi per me sono fenomeni sono fenomeni ma però Van e non meno perché giustamente ha vinto 7 monumento però loro hanno vinto 1 o 2 0 2 1 o 2 e quindi sono più forti loro allora perché vincono 64 gare di ciclocross contro dei dilettanti di uno sport non vincono solo ciclocross è che quando sono in forma e aprono il gas in un ciclismo oggigiorno che è molto più competitivo rispetto a quello di 20 anni fa quando aprono il gas questi due in quelle determinate gare non ce n'è per nessuno tipo Van der Poel che ha vinto 1 tipo Van Aert che stacca in salita Pogacar Van Aert che stacca in salita Pogacar Tiamo a questo cancellare a staccare in salita uno scalatore mai quindi Van Aert è più forte di cancellare senza dubbio è più forte però non ha vinto niente però è più forte a Palma Ress indubbiamente quindi ha delle carenze a livello conta più vincere le corse monumento bisogna fare tipo stacca 1 in salita e fa cose tipo portare canaliati sulla schiena non lo so roba saranno altri cose diverse te parli di capacità di un atleta e Palma Ress che sono due cose diverse ma ragazzi non è che il ciclo cross è nato ora cioè c'era anche prima scusami quindi buone caccia potevano fare anche il ciclo cross rispondimi a questa domanda rispondimi a questa domanda Messi facciamo finta che questo campionato del mondo non si sia ancora giocato Messi fino a prima del Qatar era forte ma non ha vinto il campionato del mondo e te dici che Messi non è tra i 3-4 giocatori più forti della storia del calcio c'è lì dentro Messi probabilmente e senza la coppa del mondo non c'era ma c'era ugualmente non gli cambia niente la coppa del mondo a Messi cosa dici ma a Messi ti sta dicendo questo a Vanarte gli manca la coppa del mondo a Messi ha vinto il 47 Champions League 64 campionati non è che ha vinto il campionato di Arcetto ho capito ma a Vanarte sta dicendo che gli manca una Fiandria e una Ruben Vanarte non ha vinto niente a parte di di classica ha vinto una Sanremo e basta poi la cosa ha vinto niente l'età per Tour de France poi per il resto l'home loop veramente cioè non ha vinto nulla fondamentalmente delle gare che doveva vincere quindi ciclocross sta ciclismo come calcetto sta calcio perché non è così sì non lo so io magari mi sbaglio cioè non è che voglio dire però se qui a noi ci gamba ciclismo 9 km ma sai a voi vi piace ciclismo o ciclocross aspetta aspetta ti è appassionato di ciclismo o ciclocross solo perché c'è una bici in comune cioè io guardo le corse di ciclismo posso essere onesto a me piace di più un'ora di ciclocross o l'ultimo giro di oggi di Benidorm rispetto a una tappa piattona di velocisti in Emilia Romagna del Giro d'Italia sono onesto è più godibile un'ora così che non tre ore di diretta su un piattone generale che sa che perché ci sono loro due perché se fosse una gara di ciclocross senza loro due ti è piuttosto ti piccheresti la testa nel muro piuttosto che di guardare quello sport è la verità ma chi lo guarderebbe quello sport quando non c'era più duello Rossi Biagi io la motocicp l'ho guardata molto meno per esempio quindi è chiaro che c'è l'antagonista e il protagonista sono due ciclisti che scendono e loro sono ciclisti che vanno a fare ciclocross d'inverno quando non c'è ciclismo e allora tutta la gente si appassiona e guarda il ciclocross ma sono due ciclisti due ciclisti che nel momento in cui non c'è il ciclismo fanno il ciclocross e te lo guardi altrimenti te il ciclocross non ti passava neanche per l'anticamera del ciclo ma perché non è così in generale la vita dello sport uno sport viene pompato quando ci sono dei talenti che attirano le masse se non c'è nessuno perché che il tennis ultimamente in Italia viene spinto parecchio perché ci sono 3-4 atleti decenti che le pompano sperando e si vinca qualcosa nei prossimi anni i berrettini i sinner e il cane di Lenin e va se non ci fossero gli italiani il tennis in Italia tornerebbe nel dimenticatorio cioè come 27esimo sport siccome ci sono questi 3-4 decenti allora lo fanno vedere e insistono su questo tennis è così che funziona il ciclocross va bene sarà interessato può essere dignitoso come sport è bello per certe gente che gli piace questi due sono ciclisti ora sono ciclisti che te definisci fenomeni ok allora non è giudicare il corridore dal palmarès è dire che se uno è un fenomeno deve vincere le corse deve vincere le corse ma non di ciclocross d'inverno deve vincere le corse un fenomeno di ciclisti determinate corse e chi è che ha visto la caduta io non la vedo neanche io anche qua dico meglio caduta non puoi non vincere niente o comunque può non da Gabriele qui è diverso avete fatto l'esempio del tennis è chiaro il tennis poi si spinge anche perché c'è Nadal Federer che ha smesso vabbè Djokovic eccetera in Italia ora il tennis c'è qualcuno in Italia c'è qualcosa siamo zero probabilmente lì viene spinto lo sport questi due trainano le masse cioè Van Aert e Van Der Poel sono internazionali più che Belgio e Olanda perché sono due personaggi che attirano a prescindere dal paese di provenienza poi è chiaro se fossero italiani te le guarderesti ancora con più poca credo non lo so però te Moulas devono smettere di fare questa cosa perché te non me ne frega niente poi la smetti perché poi perché ascolta allora intanto Van Der Poel comunque ha vinto due fiande e comunque c'è ancora dello spazio se quella schiena non la lascia libero di vincere qualcos'altro se vincessi con la Roubaix comunque sarebbe però poi alla fine anche Van Der Poel ti ha dimostrato che sì Arturo ti ha preso la maglia gialla ma l'ha preso anche Inocentini ti faccio un esempio per un po' perché ha vinto una tappa vabbè è forte però a Giro d'Italia poi ti ha dimostrato che cioè tutti i giorni faceva sfracelli e poi ha metto una tappa cioè nel senso che ha bisogno di non lo so anche loro si devono andare ridimensionati nel senso fate l'uomini da classiche non vuole fare tutto ciclocross vincere tutti in Francia volate vai a avere poi le classiche vincere vincere ecco perché la differenza la differenza tra Bonen e Cancellara e questi due Bonen e Cancellara perché sono quelli che negli ultimi anni hanno vinto più Fran de Roubaix tra questi due se vogliamo paragonare è che questi corrono innanzitutto tutto l'anno cioè quello che non facevano Bonen e Cancellara non hanno obiettivo la Ronde o la Roubaix ma hanno obiettivo ah non ce l'hanno 77 gara no hanno obiettivo cioè praticamente Van Aert guarda il calendario e dice Fran de Roubaix ma vabbè se capita se va tutto bene sono me sono me Van Aert o Van Der Poix si mettono a sedere e dicono allora io voglio vincere il mondiale c'è un corso voglio vincere la Sanremo voglio vincere la Ronde voglio vincere la Paré voglio vincere la Maglia Verde se vado al giro almeno una tappa è la prima Maglia Rosa sulla salitella ungherese la voglio prendere cioè sta gente via una gente sono personaggi che vanno a correre e per loro la tappa accanto a casa o il mondiale su strada valgono uguale questi vogli amici è sempre e questo cosa ti porta a cercare di essere sempre in condizione ma non è così la gara accanto a casa no la gara accanto di casa è un vale come la Roubaix e non è così ma per loro si loro vogli amici e tutti ma per loro si loro si sbagliano perché la Roubaix è il meglio di essere fenomeni in quella maniera fenomeni di che? 4 chilometri ecco si ecco si ma lo vedi meglio di il giornale radio tante volte ti ricordi cioè Vanarte l'anno scorso ti ricordi aveva preso il covid e ha saltato la ronde è arrivata la Roubaix e ha fatto secondo con due settimane di stop questo è un fenomeno cosa gli vuoi dire a un gioccolatore del genere in questa c'è la totale energia voglio dire che deve vincere qualcosa nelle classiche dato che è un belga che dovrebbe vincere le classiche non so che gli devo dire a un velocista di vincere volate che gli devo dire a un scalatore di vincere in salite cosa gli devo dire? se poi uno scalatore mi va a fare una volata restritta ma che me ne frega cosa gli devo dire? ti stai stai paragonando in assoluto due aeree di ciclismo diverso perché ora ma che aeree? sì sì perché al tempo di Bonen e Cancellara chi faceva il nord raramente Cancellara è più atipico perché andava forte anche a crono però in generale allora non mi piace questo modo perché te se sei un belga o comunque olandese se sei un fenomeno e comunque delle pietre no? e comunque vai forte te la Rubert non le devi non le devi considerare come un'altra corsa qualsiasi perché non sono una corsa qualsiasi te devi avere con il cuore non sono paragonabili perché Van Aert e io ci metto anche Van Der Poel da quando accendono il gas da gennaio a dicembre che sia ciclismo che ciclismo vanno a tutto fuoco non si fermano poi è chiaro che arrivi magari può capitare a Van Aert è capitato magari non l'anno scorso che aveva il covid e non è giudicabile l'anno prima nel 2021 è capitato che si è trovato alla ronde e ha finito la benzina va bene allora mettiamo così questo è il nuovo ciclismo non mi piace io sono per chi vuole vincere il Le Monumento e per chi vuole vincere i grandi giri e per chi vuole diventare campione del mondo questi sono i sogni dei ciclisti non prende 8 mila euro a botta in quei giri intorno con le scale sì va bene per lui sicuramente sarà sarà molto sostanzioso come stipendio finale anche perché è stato condannato a pagare una cifra non indifferente quindi probabilmente deve far cassa no no che è strano Van Aert Van Aert è stato condannato a pagare 600 mila non so quanto mi sembra 600 mila euro ma mi potrei anche sbagliare potrei messo anche di più al suo ex direttore sportivo quindi ha bisogno di fare soldi ha bisogno di rimettere cassa perché cioè se si deve compara Lamborghini magari invece c'ha da venderla perché c'ha da pagare le cause ma per me ascolto il contratto che c'ha la Giungo credo che 600 mila euro diventi povero e ha bisogno di con i criteri magari mi sbaglio io ma anche se fossero 7 c'è penso Van Aert c'ha un contratto da qualche milione di euro l'anno deduco e glielo darei anche io un super treno della DSM concentriamoci sull'arrivo dai due chilometri la Berta Berta faccia la telecronaca in diretta a confronto sulla destra il treno della DSM sulla sinistra il treno della Quick Step con Renko e Venepul in seconda posizione un chilometro e sette all'arrivo profilo del Berta da arresto quelle presenti quelle che fanno prima di metterti in galera la foto segnaletica curva destra sta lavorando bene decima curva in 120 km la DSM dopo aver perso Cessboll si incredibilmente diventa una squadra da volate attenzione all'australiano Sam Wellsford che ha rinunciato al Down Under per partecipare a lavorare per Jakobsen chi? Renko si si l'aveva detto non vedo non vedo la Ineos di Viviani non vedo nessuno della Movistar per Gaviaria ma sai che Fernando preferisce fare da solo vedo vedo forse una maglia azzurra bella larga che potrebbe essere Siriza però forse era un eolo mentre commenti Mirko è scomparso Mulla è sparito ma San Juan interessa tantissimo non gli prende ma si fa la telecronica così ma che telecronica è questa vita? ragazzi non capisco io c'ho lo schermo che è a caso a commento di qualcosa a caso di un chilometro fomenta fomenta cose cose dove fomentare cioè sono ancora lì che pedalano così quanto manca alla fine scusami quanto manca alla fine è sparito adesso c'è il counter dei minuti siamo 3 ore 16 minuti fai sentire l'enfasi della gara fai sentire l'enfasi dai non c'è non c'è enfasi in questa volata quali sono le velocità? 700 metri dicono sempre DSM davanti con il treno della quick step della parte sinistra si Renko è in testa da tipo due chilometri si davvero incredibile Renko e Venepul contro i DSM poi si spostano a sinistra di Total che va la Total la Stano Total per Sagan vediamo un po' la Stano ti giuro che non riesco a capire se è la Stano o l'errore si Rizza perché tira la Stano poi c'è c'è della gente con delle con con 700 metri che 700 metri sono sti è un quarto d'ora e commenti non c'è più quanto manca ho capito ma è al 10% perché per 700 metri ma non era 700 metri è un un 10 allora mancava di più ancora Renko davanti il tuo gruppo in fila o la strada sale al 10% la grafica era sbagliata pensa a te strane ma chi cazzo sono sempre DSM rischio caduta in mezzo delle persone a degli alberi a 500 a 500 ma chi è che è o sparticato con la gente ultimo chilometro adesso chi è che ha allungato non ha capito hanno fatto un arrivo da criminali criminali che è successo e dopo te lo spiego con calma hanno messo uno sparticato a meno di un chilometro all'arrivo con la gente con la gente e non segnalato tombino sulla curva che brutto Dio santo stanno portando Jakobsen in carrozza vediamo se ah Bertha spostati indietro che si vede dal micro partita la volata Bora davanti San Bennett secondo posto dietro in mezzo alla strada vedo Siriz Nizzolo Jakobsen non lo vedo Bertha è il telecronista che si vede dal San Juan Bennett Mizzolo e Monocog San Bennett ha vinto? sì in quadro c'è a Bugo la volata al microonde è fantastica non ci ho capito niente ho capito se ho capito un Bora o Bennett quello della Movistar qua che si sgranchisce no Bennett ha vinto Bennett ha fatto 22 metri di volante probabilmente perché nemmeno loro sapevano dove era l'arrivo sparti traffico da criminali proprio sì ma è incredibile non segnalato più che altro era veramente con gente praticamente c'erano due due treni uno di qua uno di là da una parte c'era Remco dall'altra c'erano degli altri e in mezzo a un certo punto si è visto passare degli alberi con una serie di gente e c'era lo spressione l'ultimo chilometro solo da una parte della strada è probabilmente quelli da un'altra parte non hanno visto vabbè comunque penso che Mizzolo abbia fatto una bella volata e si è arrivato secondo o terzo vabbè andiamo su PC che poi io vi lascio perché devo finire di festeggiare la cena non è finita ho la cena con la cena con le vene allora Bennett allora Christopher Robin Jurado Maglia Pua Paschek inesistente in che senso questo doveva fa oggi scusate ragazzi no no non ho capito io non è che terzo Rizzolo secondo Morco vedi che ci avevo visto giusto in Morco quanto è arrivato Jacopson Jacopson altrimenti fa neanche più le volate ha pesantito sempre di più no no Jacopson era dalla parte sbagliata del della parte trafico secondo me comunque ha fatto tutto Van Popper ancora ma ragazzi che l'ha portato proprio via è nuovo sta diventando bravo è nuovo è diciamo abbastanza finito e lui eh sì ecco esatto Sinizza dove è finito sembra quinto sesto ha fatto come bolle è nato indietro nel tempo si è trovato un fondo al gusto rivediamo replay c'è Sinizza e si pianta Viviani che è più indietro del ma chi è la stana che fa è Bernard che fa la volata eh sì ma poi perché la gente tira dell'acqua si vedrai mi hanno detto che a New York costa 6 dollari una bottiglietta d'acqua quindi la dieta con gli idranti era una New York che tirava l'acqua le cose da non fare chi è che ha fatto le cose da non fare tutti perché io non ho capito niente poi lui diceva che questo era l'esempio e Bernal è un bastig sì sì Bernal ha fatto la volata sì era lui Bernal ha fatto la volata perché ormai no no Bernal c'è Bernal c'è ragazzi Bernal c'è è un ottavo no vada dopo questa vada a let Bernal c'è ve lo dico io che ho seguito ho seguito Instagram e strava tutti questi mesi questo è proprio è in condizione è un naso nuovo Bernal c'è un naso nuovo ovviamente è un'altra persona non è Bernal sta esagerando sta esagerando ora sta esagerando ora veramente io non so però fare le telecamere però ne ho beccati ecco le mani non sai fare le telecamere non sai fare le telecamere ma il microonde però la gente l'ho beccata a guardare c'è lo schermo a casa di Dio qua Viviani va come Bernal allora l'arrivo ufficiale è Bennett Morcov Nizzolo e poi niente assoluto Van Poppel Van Poppel Siriza poi secondo me c'era Sagan ma scusate Morcov era lì ha lavorato a Jakobsen no Jakobsen era diverso sì in teoria qualcosa non ha funzionato era diverso era un cavalcavia forse i tre chilometri ragazzi io vi lascio continuate pure poi ci sentiamo domani ero solo entrato per capire un attimino di Hayter per parlare un po' di ciclocross e parlare di ciclocross con Moula e stuzzicarlo su Van Hart e Van Der Poel che sono gli stuzzichi ho capito che le classiche monumento non contano più niente rispondo a queste vado via Hayter si tiene o si vende dopo la Cader si vende dopo la Cader si vende perché è utile probabilmente al Polonia qualche giro di una settimana con salite paragonabili al Green Premium a montagna della Guetta che non c'è nessun avversario se no neanche lì e ricordiamoci che a questa tour da Nande sì i primi 3-4 erano in forma O'Connor l'ultima tappa dove c'era 2000 metri di slivello quindi un po' più di salita O'Connor il tuo San Meno è in formissima però quando la gara inizia a essere duretta secondo me scompare però mai dire mai però io lo venderei Dejo ha accolto il segno non è utile al momento no poi oh magari si specializza in qualcosa però al momento è quel corridore che potrebbe fa tutto ma non fa niente se facciamo il fantasy cycling della pista è da prendere però sulla strada ma non c'è perché se no si lavorerebbe 365 giorni d'anno anche il ciclo cross sarebbe bello farlo e poi mullà ho capito ma no ma io vado in cielo al ciclo cross è che almeno vedo le proporzioni è Narvaez non Bernal dico no comunque sembrava Bernal sì così hanno detto il mio Narvaez e vabbè con la maglia può di Urado Urado io vi lascio con Tarot si specializza nelle minus davanti a Mendez Marcello e a Tarot Emanuele no dopo la cade ovviamente dopo la cade se la fa perché qualcuno non la fa se 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 la fa magari la vince attenzione magari vince la cade l'Evans attenzione io la lancio io la lancio è dura però si tenta dai no fantasai che in donne procede abbiamo preso le pi di 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 prosaclistazzi quindi ora stiamo organizzando tutto procede su First Cycling sono i primi dieci andiamo a vedere First Cycling comunque già che non sia morto nessuno con quell'arrivo lì è già qualcosa eccoli i primi dieci guarda te le metto io a schermo Bennett Morkov Nizzolo Van Poppel Siriza Viviani Sagan Narvaez Narvaez quindi i due che hanno tirato la volata Morkov sono arrivato nei primi quattro Siriza sei a quinto Viviani Sagan i cari vanno meglio praticamente di altri velocisti capitani non è una novità Jacobsen è completamente disperso Siriza non è partito male troppo dura per Jacobsen oh Dio non ci si fa più con quel ragazzo lì troppo dura cosa vuol dire hanno tolto dopo i dieci ragazzi buona ciao ci sentiamo grazie anche Gaviria ha disperso vedo che Gavirione sparito completamente Gaviria ha detto punta tutto sulla pista per andare all'Olimpiadi con la Colonia ormai proprio sento cose che voi umani cioè le cose che dicono nel senso è davvero proprio roba fuori di testa come come preferire il ciclo cross alla pari giro ma questo l'abbiamo detto è un po' una cosa del giro mi piace invocare il viale era l'unica via piuttosto o la morte o la via sinistra perché o si schiantava sulle persone comunque ragazzi Van Poppel va insomma questa cade la Cadel Iwan la Cadel Iwan Ocean Race ma prima ho messo la starting list provvisore mettiamo la starting list la Cadel Iwan allora la vado a riprendere rinominata Cadel Iwan mancherà qualcuno di quelli che ha fatto la il tour down under Cadel Iwan Cadel Iwan allora mettiamo Gaviria vuole la Roubaix si guarda è proprio l'ha detto l'ha detto l'ha detto l'ha detto ci sono pensierini su Fouché la vole Gaviria vuole la Roubaix Van Alton no vuole vincere il ciclo cross direi è niente allora allora Fouché eccoci qua la Bolton per ora tre corridori tra cui Bertha Fouché o Gate favorito qui Aaron Gate Aaron Gate guarda che sarà bene Fouché può andare in fuga riguardiamo lo spartitraffico assassino vabbè si sono salvati dai qui sì Aaron Gate potrebbe fare una corsa discreta però piazzarsi Fouché va in fuga comunque Fouché va in fuga e Aaron Gate piazza all'allungo decisivo allora la Movistar direi Fouché va in fuga e arriva ragazzi questi arrivano Fouché e non so un altro Bauden dicevo la Movistar non c'è nessuno che mi entusiasma da prendere meno per le andiamo avanti anche per le leghe la Israel c'è Corby Strong che insomma con due fantamilioni può essere un investimento puretta però dici però è uno che tiene sulle salite non impegnative dipende che corse ne verrà è una forza abbastanza imprevedibile esatto la Bolton abbiamo detto la Gede Zer che dovrebbe ripresentare Ben O'Connor capitano c'è Godon ha fatto bene in qualche volata si è piazzato O'Connor può far bene ma in volata è piantata quello è ovvio 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 qui c'è vabbè qui c'è Bilbao qui sono vedi perché è difficile perché allora ci sarebbe Bilbao che però è abbastanza veloce e quindi a me sembrerebbe lui comunque fattibile se non arrivano in volata però Bauhaus forse troppo dura troppo dura c'è Arte che Arte dovrebbe essere la via di mezzo però vedi che se ho visto bene il percorso assomiglia molto alla tappa che Bilbao ha vinto c'è questa salitella c'è la cima a 9 km dall'arrivo quando c'è la discesa lui si esatta non so quanto si è interessato magari a questa vincere questa corsa ma siccome è una prova di un giorno secondo me finché sono lì ci danno ci danno ci da dentro dici tu ah beh finché sono lì se no la bora segna ancora me non credo di cui uno con la commozione cerebrale attenzione Meus perché con la commozione cerebrale potrebbe dare tutto c'è le ottiche insomma ha fatto qualcosina ha fatto vedere al down under ecco la cofidis qui se ce l'avete con questa forma che c'ha che poi finirà e tutto l'anno non si vedrà più però cioè per ora attenzione Narvaez Zanoncello e Attilio Viviani decimo interessante la F che ripresenta i capitani i capitani coraggiosi c'era il libro capitani coraggiosi Sean Quinn che non nessuno sa chi sia e Onoré che Onoré era un gregario per le classi che ora è un capitano per le corsi a tappe per le corsi di un giorno per tutto e quindi sarà destinato a non lo so Albertino questa corsa qui può fare bene ha fatto decimo Viviani della Corrotec sì Attilio sì poi la Ineos non ci sono punti UCI non ci dovrebbero essere Garen Thomas e Sheffield quindi ripresentano il grande Ida e Luke Plapp io vado contro il pronostico e dico che potrebbe fare Benino Luke Plapp e beh ha fatto bene però campato strano lo vince vince solo campato strano lo vince poi magari lui è meglio nelle corse da un giorno cioè queste corse qui non le corse a tappe mi sembra proprio che in questo momento Mirko non era d'accordo non lo vedi Plapp nemmeno qui nemmeno Swift magari no per favore lui più uomo da classi che supporta la squadra ragazzi è difficile perché che corse viene fuori comunque manca qualcuno dai la Ineos che corre in 5 in 2 la DSM non vanno in 5 mi frega niente Inter-Marchet è peggio ancora ne ha 3 al momento vabbè 3 ne ha 0 e tra l'altro non c'è pace al momento non c'è la quick step uguale con Schmidt che comunque ha fatto quinto al down under e dimostrato di avere qualche buon numero però Schmidt ha fatto dei piazzamenti poi nelle volate ha fatto qualche piazzamento in 1-2 tappe poi nella tappa vinta da Rohan Dennis non è arrivato terzo quarto terzo quarto poi c'è l'Archea con Hofstetter che è stato deludente poi questa è anche più dura quindi invisibile diciamo Iates molla nel senso che secondo me fanno la corsa per Matthews fanno la corsa cioè gli deve dar cambio anche per cui una questione di principio fanno la corsa per Matthews non lo so secondo me Iates attacca nella salita e Matthews sta a ruota e si tiene per la volata a parte Iates dato che non vencerà più niente in tutto l'anno potrebbe a parte che è riuscito a perdere anche il tour donante che questo non l'abbiamo detto perché è Iates il vero sconfitto di questo tour donante no no ma come no ascolti allora quando te sei Simon Iates che comunque ora sarà decaduto ma comunque è sempre Simon Iates e riesci a perdere una corsa del genere dato che non vai più neanche nelle salite lunghi e riesci a perderla da Jay Vine secondo me è proprio vuol dire che non c'era più niente niente lui non c'era più niente mi sento di dissentire perché la differenza alla fine l'ha fatta la cronometro e Simon Iates l'ha fatta nel diluvio e Vine l'ha fatta quando la strada era molto più abbordabile e ci sono quei 15 secondi io penso che in teoria a parte che Vine magari quest'anno farà l'esploit comunque andava bene e non c'era il terreno per staccarlo quindi quando si perdi da Vine beh chiudo velocemente la DSM presenta una squadra molto competitiva molto competitiva la Trek ha solo un nome che è quello di Bruce Tenga al momento dello Spagnolo e poi la UAE che invece i suoi corredori li ha già ufficializzati anche qui romperà le palle io penso che Covi possa se in forma può fare Covi o Irci dai secondo me qui danno spazio a Irci che non è andato male il Down Under sì anche se non è che si è visto in chissà quali no non si è visto però ha lavorato comunque non si è staccato in maniera imbarazzante e infine il solito Iua Iwan con Jared e basta chi ci sarà esatto manca ancora una settimana quindi vediamo non è di facile interpretazione no comunque manca meno di un mese al due tour e percorso non c'è ancora a parte che fare il percorso al due tour non penso ci voglia nel sangue è più inutile e poi le due salite lì e via speriamo che siano due anche quest'anno sarà il solito speriamo che siano due perché non mi ricordo ma tre o quattro anni fa ce ne avevano messo solo uno no ma perché ce ne erano lavori quella volta ah ok vabbè due ore di salita al momento al momento non c'erano no perché siamo sempre fermi alla top 10 sì al momento sì anche pro cycling stats non dà ulteriori aggiornamenti ho letto una notizia irritante irritante tombone ossia le nuove regole covid per il 2023 praticamente hanno levato tutto tutti gli obblighi tipo il tappone negativo no da fare prima delle gare tutte queste buffonate però hanno mantenuto una cosa orrenda tipo che quando c'è un caso in corsa decide della commissione medica cioè eh ragazzi quella è una cosa che io non l'accetterò mai e continuerò con le palle tutto l'anno cioè allora o si corre e non rompe le palle a nessuno e tutti corrono e ognuno fa l'affare suo come per qualsiasi altro virus o batteri o malattia mentale del mondo no cioè lasci fare basta no oppure fermi tutti non la commissione medica non va bene perché è soggettiva perché te a quel punto lì dici io fermo lui perché non è contagioso questa è tra l'altro è una teoria che non ha nessuna base secondo me scientifica io fermo lui lui non lo fermo lui lo fermo lui continua lui no questo secondo me è una cosa cioè hanno mantenuto veramente una delle cose più brutte di questa storia del covid che è la commissione medica che deve decidere se il corridore può continuare la corsa o no hai letto anche di bone invece che torna a fare gare gravel no diceva ciclocross ho capito gravel una sfida con il tuo amico van der pool grave grave il prossimo anno no il prossimo anno no io ho letto mi sembra gravel eh adesso non vorrei una cagata ha detto che gli prude testuale quello che ti ha colpito di più è la mondiale di grave sì beh potrebbe anche fare far bene lui la classe c'è deve solo la classe c'è l'età pese a 100 kg però che sia occhio sembra che il peso sia importante sì allora domani che tappa c'è al San Juan la Valè non vedo l'ora di scoprirlo questa è una missa bongo domani se Jacobsen non ha vinto oggi non vince neanche domani ruta 150 28 km 3 allo 0,9% gpm di prima categoria wow troppo troppo dura per Jacobsen poi discesa e poi si torna su sempre allo 0, domani è per domani torna a vincere Bennett poi c'è la io ragazzi torno operativo il primo febbraio prima guardo qualcosa ma faccio fatica forse le tue ad de Bessage potrebbe essere meglio di altre cose tra l'altro è cancellato il tour della promosse che nell'app non c'è già non c'era già non c'era già un po' di Saudi Tour si stavo guardando chi c'era il percorso Buitrago Guerreiro attenzione attenzione nomi interessanti questo per esempio Saudi Tour Jonathan Milan c'è anche lui si vero Milan Gerreiro sono quei nomi che dovrebbero fare chess ball prima è debutto con la Stana si dovrebbero fare la gente con gli idrati che spara l'acqua ma come io non non riesco a concepire si via dai Saudi Tour si inizia a ragionare di ciclismo che è il 30 poi tu ha De Bessage prima e poi anche nello stesso come è l'omano l'omano no ah no ma l'omano è dopo no l'omano non c'è è dopo poi chiaramente con la Valenziana si inizia il ciclismo vero vero quello vero dove la Valenziana è stata dove la Stata sale davvero ci sono le salite davvero non per finta e quindi e quindi inizia il ciclismo il primo febbraio inizia il ciclismo quando iniziano le salite inizia il ciclismo la Ines non c'è Battistella della Cruz si ma dove la non c'è io non la vedo la Ines no Valenziana Aiuso Glasov Landa Caruso Dambar non lo dico però comunque già questi quattro cioè nel senso comunque iniziano le salite ci sono degli escalatori inizia il ciclismo inizia il ciclismo ci sono aspetta fammi dire che salite ci sono no scusa Rodríguez l'ho visto l'Andalusia che parte a metà febbraio dovrebbe fare il suo esordio quindi però se parte allora aspetta Carlos Rodríguez se fa l'Andalusia sono due salite due salite non fanno l'UE purtroppo no chi Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez non si sa cosa farà quest'anno dovrebbe esordire l'Andalusia il 15 quindi all'UE Tour che parte mi sembra al 20 non dovrebbe no no quindi chi lo fa l'UE Tour ed è l'Ineos guarda io l'Ineos faccio sempre più fatica sempre più fatica Aresman magari non so cioè ci sono ancora c'è ancora veramente una start list latitante imbarazzante l'Ineos io faccio fatica a comprenderla come squadra però è voltata al futuro voltata al futuro potrà Blasdorf da portarla a Tirreno se avete soldi Sheffield a l'UE no perché fa l'omplop no Sheffield no a l'UE potrebbe esserci plato anche a due mesi a Tirreno ma non può però Sheffield comunque adesso si concentrerà sul nord no sul nord fa l'omplop strade bianche strade bianche non mi risulta io ho letto così no no l'ho letto male sì strade bianche omplop su altri tipi di corridori quella corsa lì però però Sheffield è adatto secondo me sì l'anno scorso ha fatto bene Carlos Rodriguez è adatto sì però sai non lo sai perché non l'ha mai fatta quindi non lo sai il piano lo fa ma non lo sappiamo io penso che comunque la Enio si appunterà anche su Turner per il nord anche Tim Merlier fa ciclocross ho visto ha vinto una gara recentemente o sbaglio e terzo il fratello di Van Der Poel quella gara lì e allora allora andate a vedere la gara in Spagna trofeo Serra di Tramontana la fanno tutti Ghirmai ma quelle sono le classiche sì ma quelle sono sono sempre state le faceva prima le faceva Val Verde se le vinceva sono sono gare comunque storiche sì c'è è una settimana che ogni giorno c'è un trofeo diverso sì perché c'è Calvia Dal Cudia Trofeo di Andrax Serra di Tramontana e Palma sono cinque hanno vinti corridori sono cinque cose che sono sempre comunque cioè hanno sempre avuto una start list interessante la Borra ne ha dodici ne ha guarda guarda la quante ne ha la quick step un tempo le vinceva andava bene Bookman a queste cose 17 secoli fa va bene dai secondo me abbiamo detto un po' va bene io chiuderei con la foto della serata non so se siete d'accordo per salutare il nostro nostro pubblico la rimetto subito così ci salutiamo Mirko Mirko grazie cosa fai adesso vai al mare devo aspettare i bagagli che arrivino dall'aeroporto come li hanno persi quindi dovrebbe arrivare adesso ah però li hanno persi ma li hanno ritrovati li hanno persi ma dopo due giorni ci hanno mandati hanno detto dovrebbe arrivare oggi quando è che sei ripartito per l'Australia perché lui è stato 4 giorni qua sono arrivato giovedì mattino sei stato in Italia per le feste giusto sì ti mancava il nostro bellissimo paese sì ma in vacanza in Italia si sta da Dio è un bel posto ah in vacanza sì è vive famiglia e amici mancavano sì parecchio quindi attenzione abbiamo abbiamo altri altri piazzamenti undicesimo Wellsford dodicesimo Gaviria tredicesimo Teada cosa ci piaceva lì quattordicesimo Berasturi quindicesimo Bais Wellsford e Gaviria preoccupano sì però è stata è stata una volata così atipica con sparti traffico io direi di lasciarci così questa immagine è molto romantica molto questa immagine è molto australiana perché è australiana bellissimo ragazzi bellissimo noi probabilmente ci rivediamo giovedì sì per presentare ufficialmente la 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 no non calcolo la tappa del San Juan dovete aspettare che almeno ci siano almeno una 30 quarantina di corridori perché sennò qua i calcoli fanno farsi benedire molto bene molto bene mingatant settimo settimo in quell'arrivo lì ragazzi allora buonanotte Mirko buona giornata alla prossima gara in Australia ti ricontattiamo quindi domenica è domenica scusami sì no già è vero pensavo nel senso poi anche se la tua esperienza mondiale per noi è stata meravigliosa quella vai Lorenzo vai Lorenzo rivolto a rosa non tirare non tirare non tirare l'abbiamo ucciso mannaggia ciao ragazzi arrivederci ciao buonanotte ciao ciao